Stefan Zweig, bruciante segreto La locomotiva diede un fischio rauco, era giunta al Semmering. Per un minuto le carrozze nere sostarono nella luce argentina della montagna, scaricando e poi inghiottendo una variopinta umanità, un incrociarsi di voci stizzose. Quindi in testa fischiò di nuovo la macchina rauca e sferragliando trascinò giù nella cavità del tunnel il suo codazzo nero. Dispiegata in tutto il suonitore, con sfondi trasparenti, ripuliti dal vento umido, tornava a presentarsi la distesa del paesaggio. Uno degli arrivati, giovane, che si distingueva simpaticamente per l'abbigliamento di buona fattura e per una elasticità naturale del passo, precedendo rapido gli altri prese una carrozzella alla volta dell'albergo. Senza fretta i cavalli macinavano la strada in salita. C'era primavera nell'aria, nel cielo trascorrevano quelle nuvole bianche, inquiete che solo maggio e giugno possiedono. Bianche compagne, giovani anche loro e volubili, in corsa giocosa per la pista azzurra, improvvisamente celandosi dietro alte montagne, si abbrazzano e si sfuggono, ora appallottolandosi come fazzoletti, ora sfrangiandosi a strisce e infine mettendo per burla candide berrette alle cime. Inquietudine era anche lassù, nel vento che scuoteva furioso gli esili alberi ancora umidi di pioggia, tanto che scricchiolavano piano nelle giunture e schizzavano intorno mille gocce come cintille. A tratti pareva giungere fresco dai monti il profumo della neve e allora nel respiro si sentiva qualcosa che era insieme dolce e pungente. Nell'aria e in terra era un unico movimento, un fermentare impaziente. Strofinando un poco, i cavalli trottavano di lena sulla strada adesso in discesa. Lo strepitio dei campanelli li precedeva di un pezzo. In albergo per prima cosa, il giovane andò a consultare il registro degli ospiti, che scorse con rapida delusione. Mi chiedo che cosa ci faccio qui, si sentì domandare inquieto dentro di sé. Stamane da solo in montagna, senza compagnia. È ancor peggio che l'ufficio. Evidentemente sono arrivato troppo presto o troppo tardi. Non ho mai fortuna con le mie vacanze. Non c'era neppure un nome conosciuto fra tutta questa gente. Ci fosse almeno qualche donna. Un piccolo flirt, magari anche innocuo, tanto per non trascorrere in modo troppo triste la settimana. Il giovane, barone di non molto illustre aristocrazia burocratica asburgica, funzionario presso il governatorato, si era preso quella piccola vacanza senza alcuna voglia, unicamente perché i suoi colleghi avevano ottenuto una settimana in primavera e lui non voleva regalare la sua all'ufficio. Sebbene non privo di risorse interiori, era un tipo molto socievole e come tale ben voluto, ben visto in tutti gli ambienti e perfettamente consapevole della propria incapacità di stare solo. Non aveva alcuna inclinazione a fare i conti con se stesso in solitudine e schivava il più possibile simili situazioni perché non ci teneva affatto a una più intima dimestichezza con la propria persona. Sapeva di aver bisogno degli altri come smeriglio per cui dare esca ai suoi talenti, al calore e all'euforia del suo cuore mentre da solo era frigido e inutile a se stesso come un fiammifero in scatola. Si aggirò contrariato avanti e indietro per la hall deserta ora sfogliando distrettamente un giornale ora accennando nella sala della musica un valser al pianoforte ma alle dita non riusciva di trovare il ritmo. Alla fine si sedette annoiato guardando fuori l'oscurità calare lentamente la nebbia sprigionarsi grigia come vapore dalle abetaie. Ammazzò un'ora così, senza costrutto e nervosamente poi si rifugiò nella sala da pranzo. Lì erano occupati solo alcuni tavoli che passò in rassegna tutti con un'occhiata veloce. In vano, nessun conoscente soltanto là rispose con indolenza al saluto un allenatore e là una fazza intravista lungo la ring strasse e basta nessuna donna, nulla che promettesse qualche avventura sia pur fugace. Nel suo malumore crebbe l'impazienza era uno di quei giovani favoriti nel successo da un volto gradevole e quindi sempre pronti a nuovi incontri, nuove esperienze. Sempre ansiosi di tuffarsi nell'ignoto di un'avventura e mai sorpresi da nulla avendo occultamente calcolato tutto non disposti a trascurare alcun chiedi erotico perché fin dal primo sguardo cercano in ogni donna il lato sensuale come per saggiarlo e senza distinguere tra la moglie dell'amico e la cameriera che aprendo la porta della padrona a essi li introduce. Quando con un certo sommario disprezzo uomini siffatti vengono definiti cacciatori di donne non ci si rende conto di quanta perspicace verità sia racchiusa in questa espressione perché in effetti tutti gli istinti passionali della caccia lo scovare la preda, l'eccitazione e la crudeltà interiore guizzano nell'incessante destrezza di simili individui sono costantemente alla posta sempre pronti e decisi a seguire le tracce di un'avventura fino all'orlo dell'abisso sono sempre carichi di passionalità una passionalità però che non è quella di chi ama bensì la passionalità del giocatore fredda, calcolatrice e pericolosa fra costoro vi sono i pervicaci i quali, ben oltre la giovinezza l'interesistenza diventa un'eterna avventura in virtù di tale attesa e la singola giornata si scompone in cento piccole esperienze sensuali uno sguardo en passant un sorriso rapido e fugace un ginocchio sfiorato col ginocchio e l'anno a sua volta si scompone in cento simili giornate e l'esperienza sensuale è fonte di vita che scorre e nutre e stimola senza posa lì non vi erano partner per un gioco e di questo subito si avvide lui che ne era in cerca e nessuna irritazione è più intollerabile di quella del giocatore che con le carte in mano consapevole della propria superiorità seda il tavolo verde e aspetta in vano il partner il barone si fece portare un giornale vi diede una scorsa di malavoglia ma i suoi pensieri erano fiacchi e insespicavano come ubriachi dietro le parole ed ecco alle sue spalle frusciare un vestito e una voce lievemente irritata dire in tono affettato metta tu a donk edgar accanto al suo tavolo crepitò nel passare un abito di seta alta e prosperosa trascorse come un'ombra una figura e dietro a lei con un vestito di velluto nero un ragazzino pallido che lo sfiorò incuriosito con un'occhiata i due si accomodarono di fronte al tavolo riservato il bambino visibilmente in cerca di un comportamento corretto che pareva in contrasto con la nera irrequietezza degli occhi la signora e solo su di lei il giovane barone aveva appuntato lo sguardo era molto distinta e vestita con marcata eleganza un tipo fra l'altro che a lui piaceva in modo particolare una di quelle ebree un po' francese ormai prossime alla piena maturità e senz'altro anche passionali ma sagaci nel cerare il proprio temperamento dietro una signorile melanconia ancora non gli era riuscito di fissarlo negli occhi e si limitava ad ammirare la bella curvatura delle sopracciglia la linea di grande purezza di un naso delicato indicativo sì della sua origine ma tale da conferire con quella forma nobile un tratto netto e interessante al profilo i capelli come tutto ciò che di femminile vi era in quel corpo pieno denotavano un ricoglio straordinario la sua avvenenza sembrava paga e gloriosa nella sicura consapevolezza dei numerosi ammiratori ordinò a voce molto bassa redarguì il ragazzo che faceva rumore giocando con la forchetta e ostentò un'apparente indifferenza verso la cauta insidia dello sguardo del barone che lei pareva non notare mentre in realtà era solo la vigile attenzione dell'uomo a imporle quella riservatezza controllata il volto tetto del barone si era di colpo illuminato come una frustata sotterranea i nervi si animarono spianando le rughe elettrizzando i muscoli sicché egli avvertì uno scatto in tutto il corpo e luci gli balenarono negli occhi non dissimila in questo dalle donne alle quali occorre la presenza di un uomo per sprigionare da sé l'intera loro potenza solo uno stimolo dei sensi poteva imprimere alla sua energia il massimo vigore il cacciatore che era in lui fiutò la preda volendo stanarla cercò lo sguardo di lei che a volte lo sfiorava con la sfavillante vaghezza dell'incontro casuale ma mai dava apertamente una risposta chiara anche intorno alla bocca gli parve di avvertire a tratti un moto come un accenno di sorriso ma tutto questo era incerto e proprio quell'incertezza lo eccitava l'unica cosa che gli pareva promettente era quel continuo a scansare il suo sguardo perché indicava al contempo resistenza e imbarazzo e poi il modo stranamente compito di conversare con il bambino mirato con ogni evidenza a uno spettatore proprio la marcata ostentazione di questa calma segnalava lo sentiva bene un principio di inquietudine anche lui era eccitato il gioco aveva avuto inizio prolungò la cena e quasi senza tregua tenne inchiodata con lo sguardo quella donna per mezz'ora finché non ebbe percorso e ripercorso ogni tratto del volto toccato invisibilmente ogni punto del prosperoso corpo fuori calava greve e il buio i boschi sospiravano di infantile paura mentre le grosse nuvole cariche di pioggia brancicavano grigia verso di loro sempre più fosche le ombre penetravano nella sala sempre più le persone vi parevano compresse dal silenzio sotto l'incombele di quel silenzio lui se ne avvide la conversazione tra madre e figlio andava facendosi sempre più forzata più artificiosa presto lo sentiva si sarebbe esaurita allora decise di fare una prova si alzò per primo e si avviò lentamente verso la porta contemplando a lungo il paesaggio senza guardare la donna arrivato alla porta voltò di scatto la testa come se avesse dimenticato qualcosa e la sorprese mentre lo seguiva con uno sguardo intenso la cosa lo stuzzicò si trattenne nella hall lei comparve di lì a poco con il bambino per mano e sfogliò distratta qualche rivista mostrando al figlio un paio di illustrazioni ma come il barone quasi per caso si avvicinò al tavolo apparentemente in cerca anche lui di una rivista in realtà con il proposito di addentrarsi nell'umido baluginio dei suoi occhi o magari addirittura di attaccare discorso lei si distolse diede un colpetto sulla spalla del figliuolo vien Algar oh e gli passò accanto con freddezza un po' deluso il barone la seguì con lo sguardo a dire il vero aveva contato di fare conoscenza quella sera stessa e modi così bruschi ne frustrarono le aspettative ma in fondo quella resistenza era seducente e proprio l'incertezza accese la sua voglia in ogni caso aveva trovato il partner e il gioco poteva cominciare rapida amicizia quando il barone la mattina dopo entrò nella hall vide il bambino della bella sconosciuta parlare tutto infervorato con i due lift boy ai quali mostrava le illustrazioni di un libro di Carl May la madre evidentemente ancora intenta vestirsi non c'era solo ora il barone osservò bene il ragazzino era un fanciullo timido non sviluppato nervoso di circa 12 anni con movimenti a scatti e occhi che settavano intorno vagamente inquieti come spesso i bambini a quell'età aveva un'aria intimorita quasi lo avessero proprio allora strappato dal sonno e messo all'improvviso in un ambiente sconosciuto il suo volto era non privo di grazia ma ben lungi dall'essere definito la lotta fra il tratto adulto e quello puerire pareva soltanto agli inizi tutto ancora era in esso come appena impastato privo di forma di linee nette e solamente commisto in modo vago e inquieto oltre a ciò egli era giusto nell'età ingrata in cui i bambini sembrano in prestito dentro i loro vestiti con le giunture magre che ballano dentro le maniche e i calzoni penduli mentre nessuna venità ancora li spinge alla cura dell'aspetto esteriore il ragazzino nel suo vagare senza costrutto dava un'impressione piuttosto penosa in sostanza era di impaccio a tutti quanti ora lo spingeva da parte il portiere che egli pareva scocciare con ogni sorta di domande ora invece disturbava all'ingresso evidentemente non trovava nessuno con cui trattenersi in modo amichevole per cui nel suo infantile bisogno di chiacchierare cercava di attaccare discorso con i dipendenti dell'albergo i quali quando avevano tempo gli davano retta ma subito troncavano la conversazione se spuntava un adulto o bisognava fare qualcosa di sensato il barone osservò sorridendo e con interesse il povero ragazzo attratto con curiosità da ogni cosa e da tutti sfuggito con poco garbo a un certo punto afferrò saldamente uno di quegli sguardi curiosi ma gli occhi neri non appena sorpresi nella loro cerca subito si ritrassero intimoriti e si nascosero dietro le palpebre abbassate la cosa divertì il barone il ragazzo cominciava a interessarlo ed egli si chiese se quel bambino che evidentemente era così timido soltanto per paura non potesse servirgli da tramite più rapido per un approccio in ogni caso voleva tentare senza dare nell'occhio seguì il ragazzino che era uscito un'altra volta davanti all'ingresso e nel suo infantile bisogno di tenerezza accarezzava le froge rosa di un cavallo bianco finché pure di lì davvero non aveva fortuna il cocchiere lo mandò via con toni alquanto bruschi offeso e annoiato tornò a bighellonare con il suo sguardo vuoto e un po' triste e a quel punto il barone gli rivolse la parola allora giovanotto ti piace qui? attaccò all'improvviso cercando di dare un tono quanto più gioviale a quel primo contatto il ragazzino divenne di brace e guardò su impaurito ritrasse la mano come per timore torcendosi tutto dall'imbarazzo era la prima volta che un signore sconosciuto si metteva a parlare con lui grazie molto balbettò appena l'ultima parola gli uscì più strozzata che ben articolata mi stupisce disse il barone ridendo perché in effetti è un posto piuttosto loffio specialmente per un giovanotto della tua fatta che cosa combini qui tutto il giorno il ragazzo era ancora un po' troppo frastornato per rispondere rapidamente com'era possibile che quell'elegante signore sconosciuto cercasse di attaccare il discorso proprio con lui che tutti ignoravano questo pensiero lo intimidiva e insieme lo rendeva orgoglioso a fatica si diede un tono leggo e poi facciamo tante passeggiate a volte andiamo anche in carrozza la mamma e io sono qui per rimettermi in salute dopo la malattia perciò devo stare anche molto al sole ha detto il medico pronunciò le ultime parole con una certa sicurezza i bambini sono sempre fieri di una malattia perché sanno che il pericolo li rende doppiamente preziosi ai loro familiari già il sole è senz'altro indicato per un giovanotto come te e vedrai che ti abbronzerà per bene però non dovresti startene lì inerte tutto il giorno un ragazzo come te dovrebbe muoversi sfogarsi e anche fare un tantino il pazzerello a me pare che tu sia un po' troppo a modo e poi hai l'aria di un secchione con quel tuo grosso libro sotto il braccio se penso che razza di scapestrato ero io alla tua età ogni giorno tornavo a casa con i calzoni laceri non bisogna proprio essere troppo timorati istintivamente il ragazzo dovette sorridere e questo gli tolse la paura avrebbe potuto replicare qualcosa ma gli pareva troppo sfacciato troppo ardito di fronte a quell'amabile signore sconosciuto che gli parlava in tono tanto affabile non era mai stato molto sicuro di sé anzi sempre in un certo imbarazzo per cui ora dalla gioia e dalla vergogna entrò nella peggior confusione gli sarebbe davvero piaciuto continuare la conversazione ma non gli veniva in mente nulla per fortuna in quel momento passò di lì il glosso San Bernardo giallastro dell'albergo fiutandoli entrambi e lasciandosi dolcemente accarezzare ti piacciono i cani domandò il barone oh sì molto mia nonna ne ha uno nella sua villa a Baden e quando stiamo lì mi fa compagnia tutto il giorno ma soltanto in estate quando ci andiamo in visita noi a casa nella nostra tenuta ne abbiamo credo una ventina se qui fai bravo te ne regalerò uno di pelo scuro con le orecchie bianche e un cucciolotto ti andrebbe? il bambino arrossì dalla contentezza sì certo gli scappodetto con passione desiderio ma subito spuntò timoroso e come attonito il dubbio la mamma però non lo permetterà dice che non vuole cani in casa creano troppi fastidi il barone sorrise finalmente il discorso era accaduto sulla mamma è così severa la mamma il ragazzino ci pensò guardandolo per un istante con aria interrogativa incerto se potesse già fidarsi di quel signore sconosciuto la risposta suonò cauta no la mamma non è severa adesso perché sono stato malato mi concede tutto forse mi concederà persino un cane vuoi che glielo chieda sì per piacere lo faccia gioì il ragazzo allora la mamma lo permetterà di certo e come è fatto il cane alle orecchie di anche vero è bravo nel riporto sì è bravo in tutto al barone venne da sorridere per le scintille ardenti suscitate così in fretta negli occhi del bambino d'un tratto l'imbarazzo iniziale era rotto e la passionalità frenata dal timore ebbe libero sfogo in un lampo il bambino timido e impaurito di prima si era trasformato in un ragazzo senza freni magari fosse così anche la madre pensò istintivamente il barone così calda dietro lo schermo della paura ma già il ragazzo lo assaliva con domande su domande come si chiama il cane caro caro esultò il bambino ogni parola era per lui fonte di riso e giubilo essendo come inebriato dall'inattesa circostanza che qualcuno si occupasse affabilmente della sua persona lo stesso barone era stupito del proprio rapido successo e decise di battere il ferro finché era caldo invitò il ragazzo a fare due passi in compagnia e il poveretto desideroso da settimane di un piacevole contatto umano accolse con entusiasmo la proposta improvvido spifferò tutto quanto e il nuovo amico cavava da lui con domande senza peso in apparenza buttate lì casualmente ben presto il barone venne a sapere tutto sulla sua famiglia e in particolare che Edgar era figlio unico di un avvocato viennese della ricca borghesia ebraica certo e con abili quesiti appurò rapidamente che la madre si era espressa in termini niente affatto lusinghieri sul soggiorno al semmering lamentando la mancanza di una compagnia simpatica anzi dal modo evasivo con cui Edgar rispose alla domanda se la mamma voleva molto bene al papà credette di poter arguire che i rapporti fra i due non fossero idilliaci quasi si vergognava della facilità con la quale riusciva a carpire all'ingenuo ragazzino tutti questi piccoli segreti di famiglia perché Edgar molto fiero che qualcosa dei suoi racconti potesse interessare un adulto subissò addirittura di confidenza il nuovo amico il suo cuore infantile batteva forte dall'orgoglio mentre camminavano il barone gli aveva messo un braccio sulle spalle all'idea che tutti lo vedessero in simile dimestichezza con un adulto e a poco a poco scordò di essere un bambino chiacchierando in maniera libera spontanea come se l'altro fosse un coetaneo Edgar a giudicare dai suoi discorsi era molto intelligente un po' precoce come quasi tutti i bambini malatici che trascorrono parecchio tempo con gli adulti e dotato nelle sue simpatie antipatie di un'emotività singolarmente esasperata nulla sembrava ispirargli un rapporto sereno da ogni persona o cosa parlava in termini estasiati oppure con un odio così intenso da averne sgradevolmente sfigurato il volto reso in tal modo quasi malvagio e rivoltante qualcosa di impetuoso e incongru forse ancora dovuto alla malattia da poco superata conferiva ai suoi discorsi una faticosità fanatica e pareva che la sua goffazzine fosse soltanto paura a stento repressa della propria passionalità il barone ebbe buon gioco a conquistarsi la fiducia del ragazzo gli bastò una mezz'ora per avere in mano quel cuore ardente percorso da fremiti inquieti del resto si sa è molto facile ingannare i bambini questi esseri senza malizia il cui amore così di rado viene richiesto gli bastò ritornare al passato e il discorso infantile gli venne spontaneo e naturale al punto che anche il ragazzino vide in lui un suo pari e nel giro di pochi minuti perse ogni senso delle distanze era semplicemente in estasi per la felicità di aver trovato all'improvviso in quel luogo solitario un amico e quale amico di colpo erano tutti caduti nell'oblio gli amichetti di Vienna i ragazzini dalle voci fesse con le loro chiacchiere insulse come svanite le loro immagini in virtù di questo nuovo incontro tutta la sua esaltata infatuazione adesso era rivolta al nuovo grande amico e il cuore gli si allargò dall'orgoglio allorché questi congedandosi lo invitò a tornare il mattino dopo e il nuovo amico da lontano gli fece cenni di saluto proprio come un fratello quel momento fu forse il più bello della sua vita è così facile ingannare i bambini il barone seguì con un sorriso il ragazzo che si allontanava di corsa il tramite era garantito quest'ultimo adesso ne era certo avrebbe tormentato la madre fino allo stremo con i suoi racconti ripetendo tutti i discorsi parola per parola poi si ricordò divertito di aver abilmente intessuto alcuni complimenti all'indirizzo di lei parlando in continuazione della bella mamma di Edgar per lui era pacifico che lo quace ragazzino dai e dai avrebbe messo in contatto la sua mamma con il nuovo amico da parte sua non doveva muovere un dito per ridurre le distanze tra sé e la bella sconosciuta poteva tranquillamente sognare e contemplare il paesaggio perché sapeva che un paio di ardenti mani infantili gli stavano costruendo la passerella verso il cuore di lei e terzetto il piano come si rivelò qualche ora più tardi era riuscito perfettamente in ogni minimo particolare quando il giovane barone con un lieve voluto ritardo si presentò nella sala da pranzo Edgar ebbe uno scatto sulla sedia salutandolo in modo espansivo con un sorriso felice e con cenni della mano intanto tirava per la manica sua madre e le parlava in fretta eccitato facendo gesti evidenti all'indirizzo del barone lei rossa d'imbarazzo lo redarguì per il suo comportamento troppo vivace ma non pote esimersi dal guardare a un certo punto verso il barone per accontentare il figliuolo e il barone colse subito l'opportunità accennando a un rispettoso inchino la conoscenza era fatta fu costretta a ringraziare ma da quel momento tenne il volto ancora più chino sul piatto ed evitò accuratamente durante tutto il pasto di guardare un'altra volta dalla parte del barone non così Edgar che lumava di continuo verso di lui e una volta cercò persino di parlargli cosa alquanto disdicevole che la madre provvede subito a stroncare in tono energico terminata la cena Edgar si sentì dire che era ora di andare a letto un fitto perlottio intercorse tra lui e la mamma e il risultato fu che gli venne concesso per le sue appassionate insistenze di recarsi all'altro tavolo da salutare l'amico il barone gli disse qualche parola affettuosa che tornò ad accendere gli occhi del ragazzo chiacchierando con lui per un paio di minuti poi all'improvviso con un'abile mossa alzandosi si volse verso l'altro tavolo si complimentò con la vicina un po' confusa per il figliuolo intelligente sveglio si compiacque della bella mattinata trascorsa insieme a lui edgar stava lì rosso di gioia e di fierezza e infine si informò sulla salute del ragazzo con tali e tante domande specifiche che la madre non poté non rispondere avviarono così una conversazione piuttosto lunga alla quale il ragazzino assistette felice e quasi adorante il barone si presentò e gli parve di notare che il suo nome illustre producesse un certo effetto sulla donna vanitosa in ogni caso ella si mostrò oltremodo gentile nei suoi confronti sebbene non concedesse nulla e addirittura si congelasse presto per via del bambino aggiunse a modi scusa quest'ultimo protestò con insistenza di non essere stanco e volentieri sarebbe rimasto in piedi tutta la notte ma già sua madre aveva porto la mano al barone che rispettosamente la baciò quella notte edgar dormì male in lui c'era un groviglio di felicità e di infantile disperazione durante la giornata infatti era successo qualcosa di nuovo nella sua vita per la prima volta era intervenuto attivamente nel destino di persone adulte già immerso nel dormiveglia scordò la propria condizione di bambino e all'improvviso gli parve di essere grande fino ad allora vivendo isolato ed essendo di salute cagionevole aveva avuto pochi amici per tutto il suo bisogno di tenerezza non c'era nessuno all'infuori dei genitori che poco si curavano di lui e del personale di servizio e l'intensità di un amore è sempre misurata in modo errato se si giudica tale amore in base alla sua causa occasionale e non sulla scorta della tensione che lo precede di quel vuoto oscuro di disinganno e solitudine che sta dinanzi a tutti i grandi eventi del cuore lì era in attesa un sentimento debordante ancora intatto e adesso si precipitava a braccia aperte incontro al primo che sembrasse meritarlo edgar giaceva nell'oscurità felice e frastornato voleva ridere e gli venne da piangere perché amava quella persona come mai aveva amato un amico il padre la madre e neppure dio tutta la serba passionalità dei suoi anni si aggrappò all'immagine di quella persona il cui nome qualche ora prima gli era ignoto non di meno era abbastanza avveduto per non provare disagio di fronte all'aspetto inatteso e singolare di quella nuova amicizia a turbarlo era soprattutto il senso della propria inadeguatezza e nullità sono degno di lui io ragazzino di 12 anni che ha davanti a sé ancora gli studi che la sera viene spedito a letto prima di tutti si tormentava che cosa posso mai rappresentare per lui che cosa offrirgli proprio questa impossibilità dolorosamente avvertita di manifestare in qualche modo il suo sentimento lo rendeva infelice di solito se un compagno gli era entrato nel cuore la sua prima iniziativa era dividere con lui i piccoli tesori conservati nello scrittoio francobulli e pietre i pueridi averi della fanciullezza ma tutti questi oggetti che ancora il giorno prima rivestivano per lui una grande importanza e un fascino raro di un tratto gli parevano privi di valore insulsi e spregevoli infatti come poteva offrire cose del genere a questo nuovo amico al quale non era neppure possibile dare del tu doveva trovare il modo la possibilità di rivelare i propri sentimenti sempre più lo angustiava l'essere piccolo qualcosa di incompiuto di immaturo un ragazzino di 12 anni ne mai finora aveva maledetto e con tanto impeto la sua condizione infantile mai desiderato tanto ardentemente di svegliarsi diverso e come sognava ad essere grande e forte un uomo un adulto al pari degli altri in pensieri così inquieti si inserirono presto i primi vividi sogni di quel nuovo mondo dell'età virile finalmente Edgar si addormentò con un sorriso ma il ricordo dell'appuntamento per l'indomani ne compromise il sonno già alle 7 salto su con il timore di arrivare troppo tardi si vestì in fretta e furia diede un saluto alla madre stupefatta che di solito faticava a tirarlo giù dal letto nella camera di lei e prima che potesse chiedergli qualcosa si precipitò da basso fino alle 9 si ronzolò impaziente dimenticando la colazione preoccupato soltanto di non fare attendere a lungo l'amico per la passeggiata alle 9 e mezzo come se nulla fosse il barone infine comparve naturalmente aveva belle scordato l'appuntamento ma nel vedere il ragazzo volargli incontro smanioso dovette sorridere di tanta passionalità e si mostrò disposto a onorare la sua promessa di nuovo prese sotto braccio il ragazzino raggiante andando con lui avanti e indietro solo evitò con modi garbati ma fermi di iniziare subito la passeggiata comune sembrava in attesa di qualcosa così almeno si poteva erguire dal suo sguardo che lambiva nervoso le porte d'un tratto si impettì era entrata la mamma di Edgar che ricambiando il saluto si diressa fabilmente verso i due sorrise in segno d'approvazione nell'apprendere della passeggiata in progetto che Edgar le aveva taciuto come qualcosa di troppo prezioso ma si lasciò presto convincere ad essere della partita per le insistenze del barone Edgar subito contrariato si morse le labbra che rabbia proprio adesso doveva passare di lì quella passeggiata era soltanto per lui e se anche aveva presentato l'amico alla mamma si era trattato solo di una gentilezza da parte sua non per questo comunque intendeva dividerlo con lei già si manifestava in lui una certa gelosia nel notare l'affabilità del barone nei confronti della madre si avviarono così tutti e tre e la pericolosa sensazione d'essere una persona importante e di improvvisa rilevanza fu ulteriormente alimentata nel bambino dall'insolito interesse che entrambi gli mostravano Edgar era il tema pressoché esclusivo della conversazione la madre parlava con inquietudine un po' finta del suo pallore e nervosismo il barone minimizzava invece la faccenda con un sorriso dilungandosi in tono elogiativo sui modi simpatici di quello che chiamava il suo amico per Edgar fu il momento più bello aveva acquisito diritti che mai gli erano stati riconosciuti nel corso dell'infanzia poteva interloquire senza essere subito zittito addirittura esprimere ogni sorta di desideri peregrini che fino ad allora sarebbero stati accolti in malo modo non sorprende dunque che in lui andasse crescendo a dismisura la fallace sensazione di essere un adulto ormai nei suoi sogni ad occhi aperti l'infanzia era alle spalle come un vestito troppo stretto che si butta via a mezzogiorno il barone accettando l'invito della sempre più affabile madre di Edgar sedette al loro tavolo il vis-à-vis si era trasformato in un acote dalla conoscenza era nata un'amicizia un terzetto aveva preso l'abbrivio e le tre voci della donna dell'uomo e del bambino si accordavano in pura armonia attacco ora all'impaziente cacciatore parve giunto il momento di farsi sotto con la preda l'atmosfera familiare il coro a tre voci in questa faccenda non gli andava a genio certo non era spiacevole chiacchierare amabilmente in tre ma dopo tutto chiacchierare non era il suo obiettivo e sapeva che il lato mondano con la mascherata del suo gioco di seduzioni ritarda sempre il contatto erotico tra l'uomo e la donna togliendo alle parole l'ardore e all'assalto la vampa del fuoco era bene che lei non scordasse mai nell'espire della conversazione il suo vero intento che lui lo sapeva per certo era già stato ben compreso che i suoi sforzi con quella donna non sarebbero stati vani era molto probabile e la si trovava in quegli anni decisivi in cui una donna comincia a pentirsi di essere rimasta fedele a un marito che in fondo non ha mai amato e in cui il purpureo tramonto della bellezza le consente ancora un'ultima improrogabile scelta tra ruolo materno e femminilità la vita che già da un pezzo pareva aver trovato la sua risposta in quell'istante viene rimessa in gioco un'ultima volta il magico ago della volontà uscilla tra la speranza dell'incontro erotico e la definitiva rassegnazione allora la donna è posta di fronte alla rischiosa scelta se vivere il proprio destino o quello dei figli se essere femmina oppure madre e il barone acuto in simili questioni credette di notare in lei appunto questo pericoloso oscillare fra ardente voglia di vivere e spirito di sacrificio nei suoi discorsi lei ometteva sempre di parlare del marito che ne soddisfaceva senz'altro le sole esigenze esteriori non già lo snobismo incentivato da un tenore di vita distinto e in fondo dentro di sé ben poco lei sapeva del figliuolo un'ombra di noia truccata da melanconia negli occhi scuri aduggiava la sua esistenza e offuscava la sua sensualità il barone decise di procedere rapidamente evitando però ogni parvenza di fretta al contrario come il pescatore ritrae l'amo per attirare la preda egli da parte sua intendeva conferire a quella nuova amicizia un carattere di esteriore indifferenza voleva farsi corteggiare mentre in realtà era lui il corteggiatore si prefisse di esibire una certa spocchia di sottolineare nettamente la loro differenza di status sociale e lo seduceva l'idea di conquistarsi quel corpo prosperoso pieno bello unicamente accentuando la propria arroganza in virtù di un dato esteriore come un nome nobiliare altisonante e maniere di staccate il gioco pericoloso cominciava già ad eccitarlo e perciò si impose la cautela il pomeriggio rimase in camera nella gradevole certezza che intanto lo avrebbero cercato sentendone la mancanza ma quell'assenza fu avvertita non tanto da lei alla quale in effetti era mirata quanto dal povero ragazzo cui era motivo di tormento per tutto il pomeriggio Edgar si sentì assolutamente smarrito e perso e con tenace fedeltà tipica dei ragazzi posso lunghe ore in attesa spasmodica dell'amico andarsene o intraprendere da solo qualsiasi cosa gli sarebbe parso uno sfregio alla loro amicizia gironzolò gironzolò senza costrutto per i corridoi e più passava il tempo più il suo cuore si colmava di infelicità nella sua fantasia irrequieta andava ormai vaneggiando di una disgrazia oppure di un'offesa inconsapevolmente inferta e già era prossimo al pianto per l'impazienza e per l'angoscia quando poi la sera si presentò a tavola il barone fu accolto con tutti gli onori edgar senza badare agli ammonimenti della madre e allo stupore degli altri commensali li corse incontro stringendogli di slancio il petto con le brazzina scarne dov'era dov'era stato esclamò con affanno l'abbiamo cercata dappertutto la madre arrossì per l'indesiderato coinvolgimento e disse piuttosto dura sua charge edgar assietois parlava infatti sempre in francese con lui sebbene questa lingua non le fosse poi tanto familiare e nei discorsi un po' complessi si incagliasse facilmente edgar obbedì ma non smise di interrogare il barone non dimenticarti che il signor barone è libero di far quel che vuole forse la nostra compagnia lo annoia adesso fu lei a coinvolgersi e il barone avvertì con piacere in quel rimprovero la richiesta di un complimento in lui si destò il cacciatore provava ebbrezza eccitazione per aver trovato così rapidamente la pista giusta anche perché sentiva la preda vicinissima al colpo fatale i suoi occhi scintillavano il sangue gli sfrecciava leggero per le vene le parole gli fluivano dalle labbra con una facilità che sorprendevano perfino lui come ogni soggetto dotato di una forte carica erotica era doppiamente brillante doppiamente se stesso quando sapeva di piacere a una donna così come capita a certi attori i quali si accendono soltanto nel sentire la platea la massa che respira lì di fronte completamente in loro balia era sempre stato uno capace di raccontare bene con immagini corpose ma quella sera superò se stesso bevendo nel mentre qualche coppa di champagne ordinata in onore della nuova amicizia raccontò di certe battute di caccia in India alle quali aveva partecipato come ospite di un amico appartenente all'alta aristocrazia inglese scegliendo con accortezza questo tema perché lo lasciava freddo e perché d'altro canto avvertiva che quanto sapeva di esotico e per lei era irraggiungibile eccitava quella donna ma ad essere davvero affascinato da simili discorsi era soprattutto Edgar i cui occhi ardevano di entusiasmo si scordò di mangiare di bere e con lo sguardo fisso si beveva le parole dalle labbra del narratore mai avrebbe osato sperare di vedere in carne e ossa uno che aveva vissuto in prima persona fatti tanto sconvolgenti di cui leggeva nei suoi libri la caccia alla tigre la gente di colore gli hindù e la jagernat la ruota terribile in grado di schiacciare sotto i suoi raggi mille persone fino ad allora non aveva mai pensato che uomini del genere esistessero davvero così come non credeva ai pesi delle fiabe e per la prima volta in quell'istante si sprigionò in lui un sentimento grande non riusciva a staccare gli occhi dal suo amico fissando con il fiato sospeso quelle mani proprio lì davanti a lui che avevano ucciso una tigre a stento osava chiedere qualcosa e allora la sua voce aveva un suono febbrile ed eccitato la sua pronta fantasia gli evocava via via l'immagine connessa al racconto vedeva l'amico in groppa un elefante con la gualdrappa purpurea uomini in carnagione bruna da sinistra e a destra con magnifici turbanti e poi all'improvviso la tigre che balzava fuori dalla giungla mostrando le zanne e conficcava gli artigli nella proboscide dell'elefante quindi il barone raccontò particolari ancora più avvincenti sulle astuzie necessarie per catturare gli elefanti adescando nei gabbioni gli animali giovani selvaggi indocili per mezzo di vecchi elefanti addomesticati gli occhi del bambino sprizzavano faville ed ecco la mamma dire improvvisamente guardando l'orologio never o lì e per lui fu come se davanti gli piombasse di colpo una mannaia edgarin pallidì dallo spavento per tutti i bambini l'essere spediti a letto è una sentenza terribile perché rappresenta ai loro occhi la più palese umiliazione al cospetto degli adulti è una missione lo stigma dell'infanzia della minorità del bisogno infantile di dormire e più tremenda ancora era tale umiliazione in quel momento di sommo interesse perché lo privava di cose tanto straordinarie solo questa storia ancora mamma la storia degli elefanti fammela sentire ti prego stava già per mettersi a piatire ma subito si ricordò della sua nuova dignità di adulto accennò appena un tentativo accennò appena un tentativo quella sera però la madre era stranamente severa no è già tardi è ora che tu salga sua sage edgar poi ti racconterò per filo e per segno tutte le storie del signor barone edgar esitò di solito la madre lo accompagnava sempre a letto ma non intendeva mendicare in presenza dell'amico il suo orgoglio infantile voleva asservare a quel penoso congedo una parvenza di volontarietà davvero mamma mi racconterai tutto ma proprio tutto la storia degli elefanti e tutto il resto sì figuolo e subito stasera stessa sì certo ma ora va a letto va edgar era ammirato di sé perché ancora era capace di dare la mano al barone alla mamma senza arrossire sebbene il singhiozzo gli affiorasse in gola il barone gli arruffò affettuosamente i capelli e questo suscitò un ultimo sorriso nel suo volto tirato ma poi dovette affrettarsi raggiungere la porta altrimenti avrebbero visto i lacrimoni scendergli giù per le guance elefanti la madre restò ancora qualche tempo a tavola con il barone ma non parlarono più di elefanti e di cacce un chiede sensualmente greve improvvisi sopplassalti di imbarazzo si erano introdotti nei loro discorsi da quando il ragazzino li aveva lasciati alla fine si trasferirono nella hall e sedettero in un angolo il barone era più in forma che mai lei stessa leggermente inebriata da un paio di coppe di champagne per cui la conversazione prese ben presto una piega pericolosa il barone non poteva definirsi propriamente bello era soltanto giovane e aveva un'aria molto virile nel volto brunito energico da ragazzo con i suoi capelli a spazzola e la incantava per i moti vivaci al limite della buona creanza adesso l'osservava con piacere da vicino e non temeva più il suo sguardo ma poco a poco si insinuò nei discorsi di lui un'ardire che in qualche modo la turbava qualcosa come un palpare il suo corpo un tastare poi ritrarsi un'inafferrabile concupiscenza che le fiondava il sangue nelle guance e poi subito rideva spensierato con naturalezza come un bambino e questo dava a tutte le piccole avance la svagata parvenza di scherzi infantili a volte lei aveva l'impressione di dover troncare decisamente certe parole di lui ma essendo civettuola di natura da quelle piccole licenziosità si sentiva solo indotta a temporeggiare e trascinata dal gioco rischioso alla fine cercò addirittura di imitare l'altro lanciò sulle ali degli sguardi piccole promesse già concedendosi con parole e movimenti e tollerò persino il suo farsi sempre più d'appresso la vicinanza di quella voce il cui fiato sentiva a volte simile a un brivido caldo sulle spalle come tutti i giocatori scordarono il tempo e si persero a tal punto nell'espire ardenti della conversazione che soltanto verso mezzanotte ne riemersero di soprassalto quando nella hall si smorzarono le luci lei scattò subito in piedi sull'onda di quell'improvviso soprassalto ed un tratto avvertì con quanto azzardo si fosse spinta oltre a scherzare con il fuoco ci si era anche abituata ma a quel punto il suo istinto in preda eccitazione avvertì che lo scherzo era ormai a un passo dal trasformarsi in una faccenda seria con un brivido scoprì di non sentirsi più del tutto sicura che qualcosa in lei che qualcosa in lei aveva preso a slittare volgendosi paurosamente verso il vortice nella testa c'era un unico mulinio di angoscia di vino e di discorsi ardenti fu colta da una paura sciocca assurda una paura che già alcune volte nella vita aveva provato in simili momenti di pericolo mai però in maniera vertiginosa e brutale come adesso buonanotte buonanotte a domattina presto disse in fretta nell'atto di andarsene e questo per sottrarsi non tanto a lui quanto piuttosto al rischio di quel distante e all'insicurezza nuova strana che avvertiva dentro di sé ma il barone trattenne con dolce violenza la mano portata agli insegno di saluto la baciò e non solo una volta secondo il galateo ma quattro o cinque passando fremente con le labbra dalle punte affusolate delle dita fin sul polso mentre lei sentiva con un lieve brivido i suoi baffi ruvidi solleticarle il dorso della mano di lì una sensazione calda e di angoscia irradiò per tutto il corpo con il sangue paura eruppe bruciante martellando minacciosa nelle tempie la sua testa era rovente la paura la paura assurda adesso le attraversava spasmodica il corpo ed ella ritrasse rapida la mano rimanga ancora la prego sussurrò il barone ma lei già si era allontanata con una goffaggine precipitosa che ne palesava la paura e il turbamento adesso vi era nella donna l'eccitazione che l'altro voleva e la sentiva come tutto in lei fosse stravolto bruciante tremenda la incalzava la paura che l'uomo alle sue spalle potesse seguirla e afferrarla ma nello stesso tempo ancora nella fuga avvertiva il rammarico che lui non lo facesse in quell'attimo le sarebbe potuto accadere ciò che da anni inconsciamente desiderava l'avventura il cui alito incalzante e la amava con tanta volutà sottraendosene sempre all'ultimo minuto avventura grande e rischiosa non il mero flarte effimero stuzzicante ma il barone era troppo orgoglioso per correre dietro all'attimo propizio era troppo sicuro della vittoria per far sua di rapina a quella donna in un momento di debolezza nei fumi del vino al contrario il giocatore leale era attratto solamente dalla lotta e dall'offerta di sé fatta in piena coscienza tanto non poteva sfuggirgli il veleno già le bruciava nelle vene ne era certo in cima alle scale ella si fermò premendo la mano sul cuore ansimante dovette riprendersi per un attimo i nervi le cedettero un sospiro le si levò dal petto metà di sollevo per lo scampato pericolo metà di rammarico ma tutto era confuso e seguitava a turbinarle nel sangue solo come una vertigine assopita con gli occhi semi chiusi come ubriaca andò a tastoni verso la sua porta e provò sollievo nell'afferrare la maniglia fredda soltanto allora si sentì al sicuro spinse piano la porta nella camera e già un secondo dopo si ritrasse spaventata qualcosa si era mosso lì dentro proprio in fondo nell'oscurità i suoi nervi già provati ebbero un violento scatto e stava per invocare aiuto quando una voce sommessa assonnata chiese sei tu mamma per l'amor del cielo che cosa ci fai qui si precipitò verso il divano dove Edgar giaceva avvolto su se stesso emergendo appunto dal sonno il suo primo pensiero fu che il bambino fosse malato o bisognoso di aiuto ma Edgar ancora insonnolito le disse con lieve rimprovero ti ho aspettato a lungo e poi mi sono addormentato e perché mai per via degli elefanti quali elefanti solo allora capì aveva promesso al bambino di raccontargli tutto quella sera stessa della caccia e delle avventure e il figlio questo ragazzino ingenuo infantile si era intrufolato nella stanza di lei aspettando fiducioso che tornasse e nel frattempo si era addormentato quella stravaganza la irritava o meglio sentiva rabbia verso se stessa un sommesso mormorio di colpa e di vergogna che volle soverchiare strillando vattene subito a letto razza di maleducato gli urlò Edgar la guardò con stupore perché era così in collera con lui non aveva fatto niente di male ma quello stupore irritò ancora di più la madre già agitata vattene subito in camera tua gridò stizzita gridò stizzita perché sentiva ad essere intorto Edgar uscì senza dire una parola era terribilmente stanco e solo in modo vago avvertiva attraverso le nebbi opprimenti del sonno che la madre non aveva mantenuto una promessa e che quello era un trattamento ingiusto ma non si ribellò tutto in lui era intorpidito dalla stanchezza e poi molto lo seccava ad essersi addormentato in quella stanza anziché rimanere sveglio nell'attesa proprio come un bambino piccolo disse indignato a se stesso mentre ripiombava nel sonno perché da quell'ultima giornata odiava la sua condizione di bambino schermaglie il barone aveva dormito male è sempre pericoloso andare a letto dopo un'avventura interrotta la notte agitata dal travaglio di sogni sensuali gli fece presto rimpiangere di non aver colto l'attimo con un pulso fermo quando il mattino dopo arrivò giù ancora assonnato e di pessimo umore il ragazzo gli balzò incontro da un nascondiglio abbrazzandolo con entusiasmo e cominciò a tormentarlo con mille domande era felice di riavere per sé anche solo qualche istante il suo grande amico e di non doverlo dividere con la madre solo a lui riservasse d'ora in poi i suoi racconti e non alla mamma lo pregò accalorato perché lei nonostante la promessa non gli aveva riferito nulla di tutti quei fatti meravigliosi il barone sgradevolmente colpito dall'imboscata e astento capace di nascondere il proprio malumore e astento capace di nascondere il proprio malumore fu sommerso da cento infantili molestie in più alle sue domande il ragazzo mescolò appassionate attestazioni del proprio amore felice di essere nuovamente solo con l'amico cercato da un pezzo e atteso fin dal primo mattino il barone rispose con malgarbo quel bambino sempre alla posta le sue domande insulse e in generale l'attaccamento passionale non richiesto cominciavano a tediarlo era stufo di andare in giro tutto il giorno con un ragazzino di 12 anni perdendo tempo in vuote chance adesso l'unica cosa che gli importava era battere il ferro finché era caldo e agguantare da solo la madre il che proprio per l'indesiderata presenza del bambino diventava un problema per la prima volta sentì un certo disagio di fronte a quell'affettività suscitata in modo improvvido già che al momento non vedeva alcuna possibilità di disfarsi dell'amico troppo appiccicoso comunque valeva la pena di tentare fino alle 10 ora in cui era d'accordo di vedersi con la madre per la passeggiata si lasciò sommergere distrattamente dalle chiacchiere appassionate del ragazzo buttandola ogni tanto qualche parola per non offenderlo ma intanto sfogliava il giornale infine quando la lancetta era quasi in verticale come se gli fosse venuto in mente all'improvviso pregò Edgar di fare un salto all'altro albergo per chiedere se il conte Grundheim suo padre fosse già arrivato l'ingenuo ragazzino felice di poter essere finalmente utile all'amico in qualche cosa fiero della propria dignità di araldo partì di volata e percorse con tale foca la strada che la gente si voltava a guardarlo stupita ma lui ci teneva a mostrare quanto fosse svelto se gli veniva affidata una commissione il conte gli dissero là non era ancora arrivato anzi al momento non aveva neppure fatto prenotare sempre di corsa tornò con la notizia ma nella hall del barone nemmeno l'ombra per cui bussò alla porta della sua stanza in vano preoccupato perlustrò di furia tutte le sale quella della musica e il caffè e corse agitato dalla mamma per avere chiarimenti ma anche lei era sparita il portiere cui alla fine si rivolse al colmo della disperazione gli disse con sua enorme sorpresa che i due se n'erano andati insieme qualche minuto prima edgar attese pazientemente nel suo candore non sospettava nulla di male tanto non potevano assentarsi molto ne era certo perché al barone serviva la risposta ma il tempo dilatava impietoso le sue ore e in lui cominciò a farsi strada l'inquietudine in effetti da quando quell'estraneo seducente era entrato nella sua piccola esistenza ingenua tutto il giorno il ragazzino era atteso affannato confuso in un organismo così sensibile qual è quello dei bambini ogni passione imprime le sue tracce come nella cera tenera in lui tornò a manifestarsi il tremito nervoso delle palpebre ad accentuarsi il pallore del volto edgar seguitò ad aspettare da prima con pazienza poi in preda a una forte agitazione e alla fine prossimo al pianto ma continuava a non nutrire sospetti la sua cieca fiducia nel meraviglioso amico lo induceva a supporre un malinteso e lo tormentava il segreto timore di non aver magari equivocato l'incarico ricevuto strano però che ora finalmente ritornati seguitassero i loro amabili conversari senza mostrare alcuna sorpresa pareva che non avessero avvertito granché la sua mancanza ti siamo andati incontro sperando di trovarti per strada edi disse il barone senza informarsi sull'esito del suo incarico e quando il ragazzo per l'angoscia che l'avessero magari cercato in vano si premurò di assicurare che lui aveva percorso direttamente la strada alta e volle sapere quale direzione avessero preso loro la mamma troncò in modo brusco il discorso va bene va bene non è il caso che i bambini parlino tanto edgar divenne rosso dalla rabbia era già la seconda volta che lei tentava con vile bassezza discreditarlo di fronte al suo amico perché faceva questo perché cercava sempre di farlo passare per bambino mentre lui ne era convinto non era più tale evidentemente lei gli invidiava l'amico e mirava a trarlo dalla sua parte già e certo era stata lei a portare di proposito il barone per un'altra strada ma lui non era disposto a farsi maltrattare dalla madre se ne sarebbe accorta le avrebbe tenuto testa e come edgar decise di non rivolgerle quel giorno la parola a tavola di parlare soltanto con il suo amico ma per lui fu dura accadde infatti quel che meno si aspettava nessuno badò alla sua ripicca anzi parevano proprio non accorgersi di lui che pure il giorno prima era il centro del loro sodalizio parlavano come se non ci fosse ridendo e scherzando tra loro quasi che lui fosse sprofondato sotto il tavolo il sangue gli montò alle guance nella gola aveva un groppo che gli mozzava al fiato con orrore si rese conto della sua spaventosa impotenza sicché avrebbe dovuto restarsene lì tranquillo a vedere come sua madre li portasse via l'amico l'unica persona che amava senza neppure potersi difendere se non con il silenzio forse doveva saltar su e pestare all'improvviso i pugni sul tavolo soltanto perché lo notassero ma cercò di controllarsi semplicemente posò forchetta e coltello senza più toccare cibo anche quel caparbio digiuno però non venne notato per un pezzo solo all'ultima portata la madre ci fece caso e gli domandò se non si sentiva bene che schifo pensò l'unica cosa che le viene in mente è questa se sono malato per il resto non le importa proprio nulla rispose l'aconico che non aveva voglia di mangiare e con ciò lei si diede pace nulla li indusse a considerarlo il barone sembrava averlo dimenticato certo è che neppure una volta gli rivolse la parola lacrime roventi gli spuntarono negli occhi e dovette ricorrere all'infantile astuzia di alzare in fretta il tovagliolo prima che qualcuno potesse accorgersi dei goccioloni che gli rigavano le guance e bagnavano salati le labbra alla fine del pasto tirò un sospiro di sollievo a tavola sua madre aveva proposto una gita in carrozza tutti e tre a Maria Schutz Edgar l'aveva ascoltata stringendosi il labbro fra i denti dunque nemmeno per un minuto voleva più lasciarlo solo con l'amico ma il suo odio montò furibondo soltanto quando lei alzandosi gli disse Edgar finirai per scordare tutto della scuola dovresti rimanere qui per una volta e ripassare un poco di nuovo egli contrasse il suo piccolo pugno lei cercava sempre di umiliarlo di fronte all'amico ricordandogli continuamente in pubblico che era ancora un bambino uno scolaretto appena tollerato in mezzo agli adulti ma stavolta l'intenzione gli parve troppo scoperta non rispose per nulla limitandosi a girare di colpo sui tacchi beh siamo di nuovo offesi disse lei sorridendo e quindi al barone sarebbe proprio così terribile se per una volta lavorasse un'oretta al che il barone e nel cuore del bambino qualcosa si fece di ghiaccio e di pietra il barone cheppure si dichiarava suo amico che gli aveva dato del secchione disse beh un'oretta o due non potrebbe certo guastare era forse un complotto i due si erano davvero alleati contro di lui negli occhi del ragazzo avvampò la rabbia il mio papà ha proibito che io studi qui il papà vuole che qui mi rimetta in salute disse con foga e con tutto l'orgoglio della propria malattia aggrappandosi disperatamente alla parola all'autorità del padre pronunciò la frase come una minazza e caso strano quelle parole parvero in effetti suscitare nei due un certo disagio la madre guardò altrove limitandosi a tamburellare nervosamente sul tavolo con le dita un silenzio imbarazzato si instaurò fra loro come vuoi edi disse alla fine il barone con un sorriso inautentico non tocca a me fare l'esame in tutti quanti sono già stato bocciato ma edgar non sorrise per la battuta lo fissò soltanto con uno sguardo indagatore penetrante di passione quasi volesse scrutargli dentro l'anima che cosa stava succedendo qualcosa era cambiato fra loro e il ragazzino non sapeva perché i suoi occhi vagavano intorno inquieti il suo cuore era percosso da un piccolo frenetico martello il primo sospetto che cosa li ha trasformati in quel modo si chiedeva il bambino seduto di fronte a loro nella carrozza che intanto procedeva perché con me non si comportano più come prima perché la mamma evita sempre il mio sguardo quando lo volgo su di lei perché in mia presenza lui cerca sempre di fare dello spirito di atteggiarsi a buffone tutti e due non parlano più con me come ieri o ieri l'altro a volte mi pare quasi che a volte mi pare quasi che abbiano cambiato fazza la mamma oggi ha le labbra così rosse che deve essersi le dipinte questo in lei non l'ho mai visto e lui continua ad aggrottare la fronte come se fosse offeso mica ho fatto loro niente ne ha detto una parola che li potesse urtare no non posso essere io la causa loro stessi sono diversi l'uno con l'altra rispetto a prima è come se avessero commesso qualcosa che non osano confessarsi non discorrono più come ieri e nemmeno ridono sono impacciati nascondono qualcosa tra loro c'è qualche segreto che non vogliono rivelarmi un segreto che io debbo scoprire ad ogni costo veramente non mi è nuovo deve essere lo stesso di fronte al quale mi chiudono sempre la porta in faccia quello di cui parlano i libri e i melodrammi quando gli uomini e le donne cantano con le brazze aperte gli uni davanti alle altre e si stringono e poi si respingono deve essere più o meno la medesima faccenda della mia insegnante francese che non andava d'accordo con papà e poi fu licenziata tutte queste cose sono collegate lo sento ma non so in che modo se potessi finalmente conoscerlo questo segreto avere in mano questa chiave che apre ogni porta non essere più un bambino al quale tutto viene nascosto non lasciarmi più menare per il naso né ingannare ora o mai più glielo voglio strappare questo terribile segreto una ruga si incise sulla sua fronte quasi vecchio sembrava il gracile dodicenne mentre così andava elucubrando tra sé e sé con aria seria senza degnare di uno sguardo il paesaggio che intorno si dipingeva a vividi colori le montagne con il verde terzo dei loro boschi di conifere le valli con lo splendore ancora tenero della primavera tardiva seguitava a guardare soltanto i due sul sedile posteriore di fronte a lui quasi potesse con quegli sguardi ardenti a modi lenza cavare il segreto dagli abissi scintillanti dei loro occhi nulla acuisce l'intelligenza più di un sospetto appassionato nulla sviluppa tutte le possibilità di un intelletto ancora immaturo quanto una pista che si perde nel buio a volta infatti unicamente una sottile porta separe i bambini dal mondo che noi chiamiamo reale e un fortuito alito di vento gliela spalanca d'un tratto Edgar sentiva di avere a portata di mano come non mai la cosa ignota il grande segreto a un passo soltanto ancora sotto sigillo e indecifrato ma vicino vicinissimo questo lo eccitava e gli conferiva quell'improvvisa solenne serietà perché intuiva inconsciamente ad essere al margine estremo della propria infanzia i due di fronte a lui avvertivano nell'aria una sorda resistenza senza immaginare che provenisse dal ragazzo si sentivano costretti e inibiti in tre nella carrozza i due occhi davanti a loro che li fissavano scuri con guizzi di braccia nel fondo creavano disagio di fatto non osavano scambiare una parola o uno sguardo non riuscivano più a ritrovare la conversazione spigliata mondana di prima già troppo irrititi nel tono delle calde intimità di quelle parole pericolose in cui vibra la carezzevole lascivia di furtivi palpamenti il loro discorso si incagliava sempre nelle secche di vuoti e interruzioni languiva cercava di riprendere ma incespicava di continuo nel cucciuto silenzio del ragazzino soprattutto per la madre quel tacere caparbio era di peso lo osservò di lato cautamente e rimase sgomenta notando per la prima volta all'improvviso nel modo in cui il bambino serrava le labbra una somiglianza col marito quando era nervoso o in collera le dava disagio vedersi ricordare suo marito proprio ora che intendeva giocare a rimpiattino con un'avventura come uno spettro un mentore della coscienza doppiamente insopportabile lì nello spazio angusto della carrozza e appariva il ragazzino a pochi centimetri da lei con i suoi occhi oscuramente inquieti in agguato dietro la fronte pallida ed ecco edgar alzò lo sguardo per la durata di un secondo subito entrambi abbassarono gli occhi c'erano accorti che si stavano spiando per la prima volta nella loro vita fino ad allora avevano nutrito cieca fiducia l'uno nell'altra ma adesso qualcosa era cambiato di colpo tra madre e figlio tra lei e lui per la prima volta nella loro vita cominciavano a studiarsi a scindere i loro destini ambedue già odiandosi in segreto di un odio che era ancora troppo nuovo perché usassero ammetterlo di fronte a se stessi tutti e tre provarono un grande sollievo quando i cavalli si fermarono davanti all'albergo la gita era stata un fallimento erano pienamente consapevoli ma nessuno osava dirlo edgar smontò per primo sua madre accampò la scusa di un mal di testa e salì in camera di volata era stanca e voleva stare sola edgar e il barone rimasero da basso il barone pagò il cocchiere guardò l'orologio e si avviò verso la hall senza curarsi del ragazzino gli passò accanto con la sua schiena slanciata snella con quell'andatura leggera ritmica dinoccolata che tanto affascinava il bambino il quale il giorno prima già aveva cercato di imitarla gli passò accanto senza fare una piega evidentemente aveva scordato il ragazzo piantandolo lì con il cocchiere e i cavalli come un estraneo qualcosa in edgar si spezzò quando vide passar via a quel modo l'uomo che nonostante tutto seguitava ad idolatrare disperazione proruppe dal suo cuore quando l'altro gli passò accanto a quel modo senza sfiorarlo con il soprabito senza dire una sola parola a lui che pure non si sentiva affatto in colpa la compostezza faticosamente serbata si sbriciolò il fardello della dignità gonfiato ad artificio gli scivolò dalle spalle troppo strette ridivenne un bambino piccolo e insignificante come il giorno prima e prima ancora si sentì trascinare contro il suo volere con passi rapidi e tremanti seguì il barone e mentre quello stava imboccando le scale gli sbarrò il passo e gli disse stravolto trattenendo a stento le lacrime che cosa le ho fatto perché lei mi ignori in questo modo perché mi tratta sempre così adesso e la mamma pure perché cerca sempre di sbarazzarsi di me le do fastidio o magari ho fatto qualcosa di male il barone rimase scosso e in quella voce c'era un timbro che lo turbava e inteneriva fu preso da compassione per l'ignaro ragazzino edi sei proprio uno sciocco sai oggi ero di cattivo umore e tu sei un caro ragazzo al quale voglio veramente bene e intanto gli arruffava con forza i capelli volgendo tuttavia un po' la faccia dal non dover fissare quegli occhi da bambino grandi umidi imploranti la farsa che stava recitando cominciava a risultargli imbarazzante in fondo già si vergognava di aver scherzato in maniera così imprudente con il forte attaccamento del ragazzo e quella vocina sottile scossa da segreti singhiozzi gli faceva male adesso sali edi va stasera andremo di nuovo d'accordo vedrai disse in tono conciliante ma non permetterà che la mamma mi spedisca a letto subito vero no no edi non lo permetterò sorriso il barone adesso va su da bravo devo cambiarmi per la cena edgar se ne andò lì per lì felice ma presto il martello tornò a farsi sentire nel suo cuore nello spazio di un giorno era invecchiato di anni una presenza estranea il sospetto si era ormai saldamente annidata nel suo animo infantile rimase in attesa era in gioco la prova decisiva sedevo una tavola in compagnia erano già le nove ma la mamma non lo mandava a letto la cosa lo inquietava perché proprio quella sera permetteva che stesse lì tanto a lungo mentre di solito era così precisa forse il barone le aveva rivelato il suo desiderio e le cose che si erano detti all'improvviso si sentì amaramente pentito di essergli corso dietro quest'oggi con il cuore aperto fiducioso alle dieci sua madre si alzò ad un tratto e si congedò dal barone e caso strano anche lui non parve per nulla stupito di quella precoce conclusione della serata né come era solito fare cercò di trattenerla sempre più forte il martello batteva nel petto del bambino adesso si era veramente al dunque anche lui fece finta di nulla e senza obiettare seguì la madre verso la porta ma all'improvviso alzò di scatto gli occhi ed effettivamente in quell'attimo captò un'occhiata sorridente che al di sopra della sua testa lei stava giusto lanciando al barone un'occhiata di complicità di segreta intesa sicché il barone lo aveva tradito per questo dunque la serata si era conclusa così presto volevano che si cullasse in una tranquilla sicurezza perché il giorno dopo non fosse più tra i piedi canaglia mormorò il ragazzo che cosa hai detto domandò la madre niente si bilò tra i denti anche lui aveva adesso il suo segreto il suo nome odio odio sconfinato nei confronti di entrambi silenzio ora l'inquietudine di edgar era cessata finalmente assaporava un sentimento puro chiaro odio e aperta inemicizia adesso che era certo di essere di troppo lo stare insieme si trasformava per lui in un godimento di complicata perfidia si deliziava all'idea di disturbarli di ostacolarli finalmente con tutta la forza della sua ostilità per prima cosa mostrò i denti al barone quando quello scese al mattino e passandolo salutò cordialmente con un ciao edy edgar senza alzare gli occhi restando seduto in poltrone per tutta risposta gli ringhiò un secco giorno la mamma è già scesa edgar seguitò a leggere il giornale non lo so il barone rimase interdetto ma che storia era quella adesso dormito male edy vero la battuta intendeva come al solito calmare le acque ma edgar si limitò a buttargli là un no sprezzante e si immerse di nuovo nel giornale povero scemo morborò tra sé il barone e alzando le spalle passò oltre la guerra era dichiarata anche verso la mamma edgar mostrò una fredda cortesia le spinse tranquillamente un maldestro tentativo di spedirlo al campo da tennis il sorriso appena accennato sulle labbra con una lieve punta di amarezza rivelava che non era più disposto a farsi turlupinare preferisco una passeggiata insieme a voi mamma visse con gentilezza ipocrita fissandola negli occhi chiaramente la risposta non le riuscì gradita esitò come se cercasse qualcosa aspettami qui decise alla fine e andò a fare colazione edgar attese ma la sua diffidenza era d'esta un istinto inquieto leggeva adesso dietro ogni parola di quei due una segreta intenzione ostile a volte il sospetto gli conferiva una singolare perspicacia nelle decisioni e invece di aspettare nella hall come gli era stato detto edgar preferì appostarsi sulla strada da dove poteva tenere d'occhio non solo l'ingresso principale ma tutte le porte qualcosa in lui fiutava l'imbroglio i due stavolta non dovevano comunque più sfuggirgli per la strada si nascose dietro una catasta di legna come aveva imparato nei suoi libri sugli indiani e rise soddisfatto quando circa mezz'ora più tardi vide effettivamente sua madre uscire da una porta laterale con un magnifico mazzo di rose in mano seguita da quel traditore del barone entrambi sembravano molto euforici si sentivano forse già sollevati per il fatto di essergli sfuggiti e di potersi godere da soli il loro segreto conversando ridevano e si apprestavano a scendere per il sentiero del bosco adesso era arrivato il momento come per caso edgar sbucò bel bello da dietro la catasta con tutta calma andò loro incontro prendendosela comoda molto comoda per godersi a fondo la sorpresa i due rimasero interdetti e si scambiarono un'occhiata di sconcerto lentamente con simulata naturalezza il ragazzino li raggiunse senza distogliere da entrambi lo sguardo irridente ma sei qui eddy ti abbiamo cercato in albergo disse infine la madre che bugiarda spudorata pensò il bambino ma le labbra rimasero serrate a tenere il segreto dell'odio dietro i denti tutti e tre stettero lì indecisi uno spiava l'altro allora andiamo disse rassegnata e contrariata la donna strappando i petali di una delle splendide rose intorno alle narici un lieve tremito che in lei era indice di collera edgar rimase immobile come se la cosa non lo riguardasse con gli occhi per aria e aspettando che se ne andassero poi si azzinse a seguirli il barone fece ancora un tentativo oggi c'è il torneo di tennis hai mai assistito a una competizione del genere edgar si limitò a un'occhiata di disprezzo neanche si prese la briga di rispondergli inarcò appena le labbra come per fischiare questo era quanto il suo odio mostrava i denti l'indesiderata presenza venne a pesare sui due come un incubo così i forzati vanno dietro al carceriere stringendo i pugni di nascosto veramente il bambino non faceva nulla eppure di minuto in minuto riusciva loro più insopportabile con i suoi sguardi indagatori umidi di lacrime trattenute con l'ipersensibile musoneria che frustrava qualsiasi tentativo di avvicinamento ma va un po' avanti sbotto ad un certo punto con rabbia la madre inquieta perché lui drizzava in continuazione le orecchie non ballarmi sempre davanti ai piedi mi innervosisce edgar obbediva ma dopo pochi passi si voltava fermandosi ad aspettarli se erano rimasti indietro circuendoli mefistofelico con il suo sguardo di nero cambarbone circuendoli mefistofelico con il suo sguardo di nero cambarbone e retendoli nella ragnatella arroventata dell'odio in cui si sentivano inestricabilmente prigionieri il suo perfido silenzio corrodeva come un acido il loro buon umore il suo sguardo guastava ad entrambi le parole in bocca il barone non osava più pronunciare una sola parola seducente avvertiva con rabbia che quella donna gli stava di nuovo suggendo che la passionalità faticosamente attizzata si andava adesso raffreddando per paura di quel molesto e odioso bambino cercarono continuamente di riprendere il filo del discorso ma la conversazione sempre si arenava alla fine tutti e tre si rassegnarono a percorrere in silenzio il cammino altro non udendo se non il mormorante stormire degli alberi e i propri passi svogliati il ragazzino aveva soffocato la loro conversazione adesso vi era in tutti e tre un'ostilità esacerbata con sommo godimento il bambino tradito vedeva la loro rabbia montare impotente contro la sua persona che non veniva tenuta in alcuna considerazione con sguardi ammiccanti di scherno sfiorava ogni tanto la faccia tesa del barone lo vedeva di grignare ingiurie fra i denti costretto a controllarsi per non rovesciargli le addosso e nello stesso tempo registrava con gioia diabolica anche la collera montante della madre entrambi aspettavano solo un pretesto per dargli contro per spingerlo da parte o renderlo inoffensivo ma lui non offriva loro l'occasione il suo era un odio lungamente calcolato e non mostrava punti deboli torniamo indietro disse ad un certo punto la madre sentiva che non sarebbe riuscita a controllarsi oltre che avrebbe dovuto fare qualcosa per lo meno urlare sotto quella tortura che peccato disse Edgar Serafico è così bello entrambi si resero conto che il ragazzino li prendeva in giro ma non osarono dire nulla in due giorni quel tiranno aveva imparato a controllarsi in modo assolutamente meraviglioso non un muscolo del volto ne tradiva l'ironia tagliente senza dire una parola fecero a ritroso il lungo tragitto in lei l'irritazione seguitava a covare sorda quando si ritrovò sola con il figlio nella stanza buttò da una parte con stizza l'ombrellino ai guanti capì subito che i nervi della madre erano tesi e avevano bisogno di scaricarsi ma lui cercava la scenata e rimase apposta nella stanza per provocarla lei camminava avanti e indietro tornava a sedersi tamburellava sul tavolo con le dita poi scattava in piedi di nuovo sei tutto arruffato vai in giro tutto sporco è una vergogna di fronte alla gente non hai un po' di ritegno alla tua età senza una parola di replica il ragazzino andò a pettinarsi quel silenzio quel tacere ostinato freddo con l'aria di irrisione sulle labbra la faceva impazzire di rabbia avrebbe voluto riempirlo di botte vattene in camera tua gli urlò non riusciva più a sopportarne la presenza edgar sorrise ed uscì come tremavano adesso quei due davanti a lui e quale paura avevano il barone e lei di ogni momento da passare in compagnia della presa dura e spietata dei suoi occhi più loro si sentivano a disagio e più lo sguardo del ragazzo sprizzava soddisfazione più si faceva provocatoria la sua gioia edgar tormentava i due esseri inermi con tutta la crudeltà quasi ferina dei bambini il barone riusciva ancora ad arginare la propria rabbia perché sperava di rendergli prima o poi la pariglia e comunque pensava soltanto al suo obiettivo ma lei la madre ma lei la madre perdeva di continuo le staffe per lei era un sollievo poterlo investire in malo modo non giocare con la forchetta lo apostrofava sei uno scranzato non meriti proprio di stare a tavola con i grandi edgar si limitava a sorridere sorrideva tenendo la testa leggermente piegata da un lato sapeva che quello schiamazzo significava disperazione ed era fiero che loro si tradissero così adesso il suo sguardo era assolutamente tranquillo come quello di un medico un tempo forse sarebbe stato maligno per farla incollerire ma odiando si impara molto presto ora si limitava a tacere taceva oltranza finché lei non si metteva ad urlare sotto il peso del suo silenzio la madre era arrivata al limite della sopportazione come si alzarono da tavola e di nuovo edgar si apprestò a seguirli con quel suo naturale accanimento lei sbottò furibonda dimenticando ogni riguardo sputò la verità torturata dalla presenza subdola del figlio si inalberò come un cavallo tormentato dalle mosche perché continui a corrermi dietro come un bambino di tre anni non voglio averti sempre appresso i bambini non debbono stare con gli adulti tienilo a mente combina qualcosa da solo una volta ogni tanto leggiti un libro oppure fa quello che ti pare ma lasciami in pace mi dai i suoi nervi con quel tuo strisciarmi attorno con la tua detestabile scontrosità finalmente gli era aveva estorta la confessione edgar sorrise mentre quei due parevano adesso imbarazzati la madre si voltò nell'atto di andarsene in collera con se stessa per aver palesato di fronte al bambino il proprio disagio ma edgar si limitò a dire con distacco papà non vuole che io qui vada in giro da solo papà mi ha fatto promettere che userò prudenza e non mi allontanerò da te calcò sulla parola papà perché già si era accorto che sui due aveva un certo effetto deterrente dunque anche suo padre doveva in qualche modo essere coinvolto in quello scottante segreto papà doveva esercitare sui due un qualche recondito potere che lui non conosceva già che solo menzionarne il nome incuteva paura e disagio anche stavolta non aprirono bocca si erano arresi la madre si avviò in compagnia del barone edgar li seguì ma non con deferenza come un servitore bensì duro severo e implacabile come un carceriere invisibilmente faceva tintinnare la catena da cui loro cercavano di liberarsi senza però riuscire a spezzarla l'odio aveva temprato la sua forza di bambino lui l'ignaro era più forte di quei due ai quali il segreto legava le mani bugiardi ma il tempo stringeva al barone restavano soltanto pochi giorni e bisognava sfruttarli si rendevano ben conto che era vano opporsi alla testardaggine di quel ragazzino esagerbato e perciò ricorsero alla scappatoia estrema più ignominiosa alla fuga per sottrarsi solamente un'ora o due alla sua tirannia spediscimi alla posta queste lettere raccomandate disse la madre ad edgar i due erano nella hall il barone stava parlando fuori con un fiaccheraio edgar prese con malfidenza le due lettere aveva visto prima un cameriere consegnare a sua madre una missiva che stessero magari tramando in combutta qualcosa contro di lui esitò dove mi aspetti qui sicuro sì ma non andartene allora tu mi aspetti qui nella hall fino al mio ritorno capito consapevole della propria superiorità ormai parlava con la madre in tono di comando negli ultimi due giorni erano cambiate molte cose poi si avviò con le due lettere sulla porta si imbattene il barone per la prima volta da due giorni gli rivolse la parola faccio un salto a spedire queste due lettere mia mamma mi aspetta finché ritorno la prego di non andare via prima il barone sgusciò lesto sì certo aspetteremo edgar si precipitò all'ufficio postale dovete attendere un signore davanti a lui si dilungava in una serie di noiosi quesiti finalmente riuscì a sbrigare la faccenda e tornò di volata con le ricevute giusto in tempo per vedere sua madre e il barone prendere il largo in carrozza rimase impietrito dalla rabbia per poco non raccattava un sasso e glielo tirava dietro dunque gli erano sfuggiti ma con quale infame e abietta menzogna che sua madre mentisse gli era noto dal giorno prima ma che potesse essere così spudorata da infranzere un'esplicita promessa gli tolse ogni residuo di fiducia non riusciva più a capire la vita da quando si era reso conto che le parole dietro le quali pensava stesse la realtà erano soltanto bolle di sapone iridecenti sfere effimere che scoppiando svalivano nel nulla ma quanto doveva essere tremendo un segreto che induceva delle persone adulte a ingannare lui un bambino e a svignarsela come malfattori nei libri che aveva letto la gente uccideva e imbrogliava per conquistare denaro potere o reami ma lì qual era il motivo che cosa volevano quei due perché si nascondevano di fronte a lui che cosa cercavano di celare dietro cento menzogne si torturava il cervello oscuramente avvertiva che quel segreto era il catenaccio dell'infanzia che la sua conquista significava essere un adulto finalmente un uomo ah poterlo afferrare ma non riusciva più a ragionare con chiarezza la rabbia per il fatto che gli fossero sfuggiti lo tormentava e offuscava la sua lucidità corse fuori nel bosco astento riuscì a riparare nel buio dove nessuno poteva vederlo e lì trovò sfogo in un fiume di calde lacrime bugiardi cani impostori faramutti dovette urlare queste parole a pieni polmoni altrimenti soffocava la rabbia l'insofferenza l'irritazione la curiosità l'impotenza il tradimento degli ultimi giorni che aveva represso nella sua lotta infantile nella sua presunzione di essere ormai adulto a quel punto gli dilaniarono il petto e divennero lacrime era l'ultimo pianto della sua infanzia l'ultimo pianto senza freno per l'ultima volta si abbandonava alla femminea voluttà delle lacrime in quel momento di indicibile rabbia scaricò nelle lacrime tutto ciò che aveva dentro fiducia amore crudeltà rispetto l'intera sua infanzia il ragazzo che poi tornò in albergo era un altro era freddo e agiva con premeditazione per prima cosa andò nella sua stanza si lavò con cura la faccia e gli occhi perché i due non provassero un senso di trionfo nel vedere le tracce delle sue lacrime poi preparò la resa dei conti e attese paziente senza il minimo nervosismo la ulla era piuttosto affollata quando fuori ricomparve la carrozza con i due fuggitivi un paio di signori giocavano a scacchi altri leggevano il giornale le signore scambiavano quattro chiacchiere in mezzo a loro sedeva immobile un po' pallido con occhio ansioso il ragazzino come la madre e il barone entrarono un po' imbarazzati di trovarselo davanti così all'improvviso e già accingendosi a far fugliare la scusa convenuta lui li affrontò con calma dignità e disse in tono di sfida signor barone vorrei dirle una cosa il barone si sentì a disagio era come se lo avessero colto sul fatto sì certo più tardi senz'altro Medgar alzò la voce e disse forte e secco perché tutti intorno potessero sentirlo ma io le voglio parlare adesso lei si è comportato in modo abietto lei mi ha mentito lei sapeva che mia mamma mi stava aspettando ed è Edgar gridò la madre vedendo tutti gli occhi fissi su di lei e gli andò addosso ma il ragazzo come si avvide che ella voleva soverchiare la sua voce gridando ancora più forte si mise a strillare in modo parossistico glielo ripeto di fronte a tutti quanti lei ha mentito in modo infame e questo è vile questo è miserabile il barone impallidì i presenti fecero tanto d'occhi certuni ridacchiando la madre afferrò il bambino che tremava dall'agitazione vieni subito in camera tua altrimenti ti pesto qui davanti a tutti balbettò Rauca ma Edgar aveva già ritrovato la calma gli dispiaceva di aver perso le staffe a quel modo era scontento di sé perché in effetti voleva sfidare il barone con freddezza ma la rabbia era stata più forte della volontà tranquillamente senza fretta si avviò verso le scale signor barone la prego di scusare la sua villania come ben sa è un bambino nervoso farfugliò ancora la madre confusa dagli sguardi un po' maligni della gente puntati su di lei niente al mondo le risultava più terribile di uno scandalo ed era consapevole che a quel punto doveva darsi un contegno invece di prendere subito il largo andò prima del portiere chiedendo se c'erano lettere e altre cose di poco conto e poi si avviò verso il piano di sopra come se nulla fosse successo ma alle sue spalle si abbordava lieve una scia di sussurri e risolini repressi salendo rallentò il passo di fronte alle situazioni serie era sempre smarrita e in fondo quel contrasto le faceva paura non poteva negare di essere in colpa e poi temeva lo sguardo del figliuolo quello sguardo nuovo sconosciuto così strano che la paralizzava e la rendeva insicura per timore decise di provarci con la dolcezza perché sapeva che in caso di scontro aperto quel ragazzino esacerbato adesso era il più forte aprì piano la porta edgar era seduto lì tranquillo e freddo gli occhi che alzò su di lei non tradivano la minima paura non esprimevano neppure curiosità pareva molto sicuro di sé edgar cominciò in tono più possibile materno che cosa ti è saltato in mente mi sono vergognata di te come si può essere così villani tanto più poi da parte di un bambino verso un adulto vedi di fare subito le tue scuse al signor barone edgar guardava fuori dalla finestra il no lo disse propriamente agli alberi di fronte la sua sicurezza cominciava a sconcertarla edgar ma che cosa ti sta succedendo sei così diverso dal solito non ti riconosco più hai sempre stato un bambino intelligente educato con cui si poteva parlare di colpo ti comporti come se avessi il diavolo in corpo ma che cosa hai contro il barone ti piaceva tanto e lui è sempre stato gentile con te già perché voleva conoscere te si sentì a disagio storie che cosa ti salta in mente come vuoi pensare una cosa simile ma il ragazzino si ribellò è un bugiardo un falsone ogni cosa che fa è calcolo e bassezza voleva conoscerti ecco perché era gentile con me e mi ha promesso un cane non so che cosa ti abbia promesso e perché sia gentile con te ma certamente anche da te mamma vuole qualcosa altrimenti non sarebbe così cortese e gentile è un malvagio mente guardali bene una volta tanto i suoi occhi da falsone io l'odio quel miserabile bugiardo quel farabutto ma edgar come puoi dire una cosa simile era turbata non sapeva come rispondergli dietro di sé una sensazione le diceva che il figliuolo era nel giusto sì è un farabutto questo non me lo togli dalla testa tu stessa dovresti rendertene conto perché ha paura di me perché si nasconde davanti a me perché sa che io ho capito le sue vere intenzioni che lo conosco quel farabutto come puoi dire una cosa simile il cervello di lei era prosciugato solo le labbra esangui seguitavano a balbettare queste due frasi all'improvviso fu presa da una tremenda paura senza capire se fosse paura del barone oppure del bambino edgar vide che il suo monito faceva effetto e fu tentato di tirarla dalla sua parte di farsela alleata nell'odio nell'inimicizia verso il barone si accostò con tenerezza alla madre la abbracciò e la sua voce divenne sua dente dall'emozione mamma disse tu stessa ti sarai accorta che le sue intenzioni non sono buone lui ti ha completamente trasformata sei tu a essere un'altra non io lui ti ha messa contro di me per averti solo per sé è certo che ti vuole ingannare non so che cosa ti abbia promesso so soltanto che non lo manterrà dovresti stare in guardia da quell'uomo chi mente a una persona mente anche all'altra è un malvagio di cui non ci si deve fidare quella voce tenera e quasi in lacrime le pareva uscire dal proprio cuore dal giorno prima si era affacciato in lei un disagio che le diceva la medesima cosa con sempre maggiore insistenza e come tanti dall'imbarazzo di un sentimento travolgente ella cercò scampo nella rudezza dell'espressione si inalberò i bambini non capiscono queste cose non spetta a te mettere becco in faccende del genere tu devi comportarti in modo educato e basta la faccia di Edgar tornò a farsi gelida come credi disse con durezza io ti ho avvertito sicché non intendi scusarti no stavano a muso duro l'uno di fronte all'altra la madre si rendeva conto che ne andava della propria autorità allora manderai qui in camera da solo non tornerai a tavola con noi prima di esserti scusato ti insegnerò io le buone maniere non uscirai da questa stanza finché non te lo dirò io hai capito? Edgar sorrise quel risolino perfido sembrava ormai impresso stabilmente sulle sue labbra dentro di sé era in collera con se stesso quanto era stato sciocco da parte sua allentare ancora una volta le briglie del cuore nell'intento di mettere in guardia quella bugiarda la madre uscì senza degnarlo di uno sguardo temeva quegli occhi taglienti il ragazzino suscitava in lei disagio da quando si era accorta che teneva gli occhi bene aperti e le diceva proprio ciò che lei non voleva sapere né intendere per la donna era terribile vedere la propria voce interiore la propria coscienza andare in giro scissa da lei nelle sembianze di un bambino del suo bambino come monito irridente fino ad allora quel bambino era stato un appendice della sua esistenza un ornamento un trastullo qualcosa di caro e familiare a volte magari anche un peso ma comunque qualcosa che seguiva il medesimo flusso in sintonia con la sua vita ora per la prima volta si inalberava e recalcitrava di fronte al volere di lei e il ricordo del suo bambino era adesso venato da qualcosa di simile all'odio e tuttavia mentre un po' stanca scendeva le scale la voce infantile le risuonava dentro dovresti stare in guardia da lui non le riusciva di tacitarne il monito nel passare le balenò davanti uno specchio lo fissò interrogativa a fondo sempre più a fondo finché le sue labbra si schiusero in un lieve sorriso e si arcuarono come a formare una parola temeraria ancora le risuonava dall'interno quella voce ma lei alzò le spalle quasi per scuotersi di dosso tutti quegli scrupoli invisibili diede allo specchio un'occhiata luminosa sollevò il vestito e scese con il gesto deciso di un giocatore che butti sul tavolo la sua ultima sonante moneta trasse al chiaro di luna il cameriere che aveva portato il pasto ad Edgar nella stanza dove era agli arresti domiciliari richiuse la porta facendo scattare la serratura il ragazzino ebbe un gesto di stizza evidentemente la madre aveva disposto che lo si tenesse sotto chiave come una bestia feroce cupi pensieri gli affiorarono alla mente adesso che cosa succede da basso mentre io sono rinchiuso qui che cosa stanno tramando quei due magari proprio ora accade la sotto la cosa segreta e così io non potrò essere presente questo segreto che avverto sempre ovunque quando mi trovo in mezzo agli adulti questo segreto davanti al quale loro sbarrano la porta di notte che avvolgono in un parlottare sommesso se per caso io entro questo grande segreto che da giorni è un passo da me a portata di mano e che non si lascia ferrare che cosa non ho già fatto per venirne a capo a suo tempo ho sottratto dallo scrittoio di papà certi libri e li ho letti e dentro c'erano tutte quelle strane cose solo che io non le ho capite deve essersi come un sigillo che prima va spezzato per arrivarci forse in me forse negli altri ho chiesto alla donna di servizio l'ho pregata di spiegarmi quei passi dei libri ma lei mi ha riso in faccia terribile essere un bambino pieno di curiosità e non poter chiedere a nessuno essere sempre ridicoli agli occhi dei grandi come qualcosa di sciocco o di inutile ma ci arriverò lo sento tra poco saprò una parte è già nelle mie mani e non mollerò prima di avere scoperto tutto quanto tese l'orecchio per sentire se arrivava qualcuno fuori un vento lieve passava tra gli alberi spezzando in cento schegze baluginanti tra i rami lo specchio immobile del chiaro di luna non può essere nulla di buono quello che i due hanno in mente se no non sarebbero ricorsi a così miserabili menzogne per togliermi di torno certo ora rideranno di me quei maledetti perché finalmente non gli sto più fra i piedi ma sarò io a ridere per ultimo che sciocchezza da parte mia lasciarmi rinchiudere qui dentro concedere loro un attimo di libertà anziché stargli appiccicato spiandone ogni mossa so che i grandi sono sempre imprudenti e anche loro finiranno per tradirsi ci credono molto piccoli in continuazione e pensano che la sera noi dormiamo sempre ma dimenticano che si può anche fingere di dormire e rimanere in ascolto che si può fare i tonti ed essere assai furbi ultimamente quando la zia ha avuto un bambino loro lo sapevano da un pezzo ma davanti a me hanno fatto la scena di chi cade dalle nuvole come se la cosa non li avesse sorpresi ma anch'io lo sapevo perché li ho sentiti parlare settimane prima la sera mentre loro credevano che io dormissi e così anche stavolta li sorprenderò quegli infami ma se potessi vedere attraverso la porta spiarli furtivamente mentre si credono al sicuro o non dovrai forse suonare il campanello così verrebbe sulla cameriera ad aprire la porta e a chiedere che cosa desidero oppure potrei fare chiasso spaccare un vaso allora sì che aprirebbero e in quell'istante potrei sgusciare fuori e ascoltare di nascosto i loro discorsi ma no questo non lo voglio fare nessuno deve vedere con quale bassezza quelli mi trattano sono troppo orgoglioso per questo domani me la pagheranno cara da basso si udì ridere una voce di donna edgar trasalì poteva essere sua madre quella aveva tutti i motivi per ridere per farsi beffe di lui del bambino della creatura indifesa che si poteva rinchiudere girando una chiave quando era d'impiccio buttare in un angolo come un fagotto di abiti fradici edgar si sporse con cautela dalla finestra no non era lei si trattava di fanciulle sconosciute in vena di scherzi che prendevano in giro un ragazzotto e in quell'istante si rese conto che in fondo la sua finestra non era poi tanto in alto e come lo notò ecco l'idea saltare giù mentre quelli si credevano bene al sicuro e spiarli era euforico dalla gioia per la sua trovata gli pareva di stringere nelle mani il grande balenante segreto della fanciullezza fuori fuori lo incitava dentro di lui un tremito febbrile non c'era alcun pericolo gente non ne passava e già era compiuto il balzo ci fu un leggero rumore di gaia smossa ma non lo sentì nessuno appostarsi spiare in quei due giorni era diventato il massimo diletto della sua vita e ora sentiva un valuttuoso piacere misto a un leggero brivido di paura nel girare intorno all'albergo con passi silenziosi evitando con cura il riflesso molto intenso delle luci per prima cosa la guancia cautamente premuta contro il vetro scrutò nella sala da pranzo il loro posto consueto era vuoto dopodiché continuò la sua indagine di finestra in finestra nell'albergo non osò entrare per timore di trovarseli all'improvviso davanti in qualche corridoio dei due però non vi era traccia stava già disperando quando vide due ombre proiettarsi sull'ingresso si ritrasse di scatto e si acquattò nel buio e sua madre uscire con l'immancabile accompagnatore sicché era arrivato giusto in tempo che cosa stavano dicendo non riusciva a captarlo parlavano sottovoce e il vento strepitava con troppa inquietudine fra gli alberi a un certo punto però udì chiaramente una risata la voce di sua madre rideva in un modo che gli riusciva nuovo stranamente acuto come titillato eccitato nervoso da lui mai inteso e tale da spaventarlo rideva quindi non poteva essere qualcosa di pericoloso di grande e di eccezionale quello che gli tenevano nascosto edgar era un po' deluso ma perché erano usciti dall'albergo dove stavano andando ora da soli nella notte molto in alto dovevano fluttuare con ali smisurate i venti perché il cielo un attimo prima ancora limpido e rischiarato dalla luna adesso si oscurò drappi neri lanciati da invisibili mani avvolgevano a tratti la luna e allora la notte diventava così impenetrabile che a stento si riusciva a scorgere la strada e poi tornava a splendere luminosa l'astro si scopriva argento inondava freddo il paesaggio era misterioso questo gioco tra luce ed ombra ed eccitante come il gioco di una donna tra nudità e veli proprio ora il paesaggio tornava a denudare il suo corpo lucente edgar stando di costa sopra la strada vedeva procedere le sagome o meglio ne vedeva una sola perché camminavano stretti stretti come se li compattasse un'intima paura ma dove stavano andando quei due i pini scricchiavano nel bosco era un unico strepitio sinistro quasi vi infuriasse una cazza selvaggia io li seguo pensò edgar non possono sentire i miei passi in questa agitazione del vento e del bosco e mentre loro in basso procedevano sulla strada larga e chiara lui in alto nel bosco balzava quattroquattro da un albero all'altro da un'ombra all'altra li seguiva tenazza e inesorabile benedicendo il vento che copriva il rumore dei suoi passi e maledicendolo perché si portava via continuamente le loro parole soltanto se fosse riuscito a captare i loro discorsi sarebbe stato certo di tenerne in pugno il segreto i due camminavano ignari si sentivano beatamente soli in quella vasta notte di scompiglio e persi nella loro crescente eccitazione non immaginavano affatto che nell'oscurità intricata di rami ogni loro passo fosse seguito e due occhi li artigliassero con tutta la forza dell'odio e della curiosità con tratto si fermarono anche Edgar si bloccò all'istante e si appiattì contro un tronco fu preso da una paura sconvolgente e se adesso tornavano indietro e arrivavano in albergo prima di lui se lui non riusciva a mettersi in salvo nella sua stanza e la madre la trovava vuota allora tutto era perduto allora avrebbero saputo che lui li spiava di nascosto e non c'era più speranza di strappar loro il segreto ma i due indugiarono evidentemente per un contrasto di opinioni per fortuna c'era il chiaro di luna e lui poteva vedere tutto nitidamente il barone indicava un biottolo laterale buio e stretto che portava giù a valle dove la luce lunare non fluiva piena ed ampia come sulla strada ma filtrava solo a gocce e strani raggi attraverso la boscaglia perché vuole scendere per di là si interrogò edgar la madre pareva dire di no ma l'altro cercava di convincerla dal suo gesticolare si poteva arguire l'insistenza di lui il ragazzino prese paura che cosa voleva quell'individuo da sua madre perché il farabutto cercava di trascinarla nel buio dai suoi libri che per lui erano il mondo affiorarono all'improvviso vividi ricordi di assassini e rapimenti di foschi delitti quello certamente la voleva uccidere ecco perché aveva tenuto lontano lui e attirato lei lì da sola doveva gridare aiuto assassino l'urlo già fiorava alla sua gola ma le labbra erano prosciugate e incapaci di emettere un suono i nervi si tesero per l'agitazione stentava a reggersi in piedi nel parossismo dell'angoscia cercò un appiglio e un ramo gli si spezzò in mano i due si voltarono spaventati gli occhi fissi nell'oscurità edgar restò appoggiato in silenzio all'albero le brazze strette contro il piccolo corpo raccolto nell'ombra un silenzio di tomba eppure sembravano davvero in preda allo spavento torniamo indietro sentì dire a sua madre il suono della voce tradiva paura il barone evidentemente allarmato anche lui la consentì pian piano tenendosi stretti ritornarono sui loro passi il loro turbamento interiore fu la fortuna di edgar a quattro zampe fra gli arbusti graffiandosi a sangue le mani strisciò fino alla volta del bosco poi a tutta velocità con il fiato mozzo si precipitò all'albergo e di volata in camera sua fortunatamente la chiave che lo aveva rinchiuso era infilata nella toppa all'esterno la girò piombando nella stanza e poi sul letto dovette riprendere fiato per qualche minuto perché il cuore gli batteva frenetico in petto come un batacchio contro il bronzo sonoro della campana infine osò alzarsi si appoggiò alla finestra e attese che arrivassero ci volle molto dovevano essere andati pianissimo con circospezione spiava all'apertura in ombra ed eccole arrivare lentamente il chiaro di luna sparso sui vestiti in quella luce verde avevano un'aria spettrale ed il nuovo fu colto da un delizioso orrore se quello era veramente un assassino quale atroce delitto aveva mai impedito lui con la sua presenza scorgeva in modo nitido i loro volti bianchi come cenzi in quello di sua madre c'era un'espressione statica che gli riusciva nuova mentre l'altro aveva un'aria tesa e seccata evidentemente perché le sue intenzioni erano fallite ormai erano molto vicini solo a due passi dall'albergo solo a due passi dall'albergo le loro figure si scostarono una dall'altra avrebbero guardato su no non lo fecero proprio mi hanno dimenticato pensò il ragazzino con una rabbia feroce ma anche con un segreto senso di trionfo io però non ho dimenticato voi voi pensate certo che io dorma o sia sparito dalla faccia della terra ma avrete modo di scoprire il vostro errore voglio starvi alle costole passo per passo finché non avrò strappato quel farabutto il segreto tremendo che non mi fa dormire spezzerò la vostra alleanza io non dormo lentamente i due varcarono la soglia e mentre stavano entrando uno dietro l'altra le sagome riflesse si fusero di nuovo per un attimo come un'unica striscia nera la loro ombra scomparve nella porta illuminata poi sotto il chiaro di luna lo spiazzo davanti all'albergo tornò lucente simile a un'ampia distesa di neve l'aggressione edgar si ritrasse dalla finestra con un respiro affannoso era scosso dall'orrore ma in vita sua era stato così vicino a qualcosa di altrettanto enigmatico il mondo delle emozioni delle avventure appassionanti il mondo dei suoi libri fatto di assassini e inganni nella mente del ragazzo si collocava sempre là dove erano le favole a un passo dai sogni negli irreale e nell'irraggiungibile ma adesso di colpo sembrava esserci finito ma adesso di colpo sembrava esserci finito lui in quel mondo orribile e tutto il suo essere rascosso febbrilmente da un incontro così inatteso chi era quell'uomo misterioso entrato all'improvviso nella sua vita tranquilla era davvero un assassino visto che cercava sempre di appartarsi e di trascinare la madre in luoghi bui sembrava incombere un presagio spaventevole non sapeva che fare fin domani avrebbe senz'altro scritto o telegrafato al padre ma la cosa non poteva forse accadere subito quella sera stessa la madre infatti ancora non era tornata in camera sua ancora stava con quell'odioso estraneo tra la porta interna e quella esterna nascosta dalla tapezzeria e di facile apertura c'era un'adeguata intercapedine non più grande del vano di un guardaroba edgar sgusciò in quell'angusto spazio buio per spiare i passi della madre sul corridoio perché aveva deciso di non lasciarla sola nemmeno un istante adesso a mezzanotte il corridoio era deserto rischiarato dalla luce fioca di un'unica fiamma finalmente i minuti gli si dilatavano in modo spaventoso fu di salire dei passi circospetti tese l'orecchio allo spasimo non era l'andatura lesta di chi voglia raggiungere la propria stanza si trattava piuttosto di passi strascicati esitanti molto rallentati come di chi salga un sentiero assai difficoltoso e ripido e nel mentre un continuo parlottare e far sosta edgar tremava dall'eccitazione che fossero ancora in due lui sempre con lei il bisbiglio era troppo distante ma i passi sebbene tuttora incerti si fecero più vicini ed un tratto sentì la voce odiata del barone dire piano eroca qualcosa che non intese e poi subito quella di sua madre con rapida ripulsa no oggi no no edgar tremava i due si facevano sempre più vicini e lui doveva sentire tutto ogni passo per quanto felpato era una fitta al cuore e come gli pareva orrida la voce la voce cupida e il suo adente ribugnante di quell'odioso farabutto non sia crudele lei era così bella stasera e l'altra di rimando no non devo non posso mi lasci andare ha una tale paura nella voce della madre che il ragazzino si spaventa ma che cosa vuole ancora da lei e lei perché lo teme intanto si sono avvicinati sempre più e adesso devono essere già davanti alla sua porta tremante e invisibile edgar è a un palmo da loro appena schermato dal sottile diaframma della stoffa ora le voci sono a un soffio da lui venga matilde venga di nuovo sente sua madre gemere più debolmente ormai in una resistenza che va cedendo ma che cosa succede adesso sono andati oltre nel buio la madre non è entrata nella sua stanza ma ha proseguito dove la sta tracinando perché lei non parla più le ha forse messo un bavaglio le sta serrando la gola quei pensieri lo fanno impazzire con mano tremante apre di una spanna la porta e nella penombra del corridoio scorge i due il barone ha stretto il braccio intorno alla vita della madre e piano la conduce via mentre lei già sembra cedere adesso si ferma davanti alla sua stanza la vuole trascinare via si angoscia il bambino ora vuole commettere l'atto terribile con uno scatto fuoribondo sbatte la porta e si precipita fuori verso quei due sua madre caccia un urlo vedendo qualcosa balzarle all'improvviso addosso dal buio sembra svenire sorretta astento dal barone il quale però nel medesimo istante sente in faccia un piccolo debole pugno che gli pesta duramente le labbra contro i denti qualcosa che gli si attacca al corpo con gli artigli come un felino lascia andare la donna atterrita che scappa in un lampo e alla cieca risponde al suon di cazzotti prima ancora di sapere contro chi si stia difendendo il ragazzino sa di essere il più debole ma non desiste finalmente ecco il momento a lungo atteso di scaricare con furia tutto l'amore tradito tutto l'odio accumulato con i suoi piccoli pugni picchia la disperata le labbra contratte in una rabbia febbrile senza senso adesso anche lui è pieno di odio verso quella spia nell'ombra che gli ha guastato gli ultimi giorni e il gioco risponde ai colpi senza complimenti dove capita capita edgar geme ma non molla non invoca aiuto per un minuto lottano in silenzio accanitamente nel corridoio buio a poco a poco il barone si rende conto di quanto sia ridicola quella scazzottatura con un ragazzino e lo afferra di brutto per scaraventarlo via ma il piccolo sentendo i muscoli venir meno e sapendo che di lì a un attimo avrebbe perso la partita come un cane bastonato con rabbia feroce addenta quella mano solida robusta che cerca di agguantarlo per la collottola istintivamente il barone morso emette un urlo smorzato e lascia la presa un attimo soltanto di cui il bambino profitta per scappare in camera sua e tirare il chiavistello solo un minuto è durato questo scontro notturno nessuno a destra e a manca lo ha sentito tutto tace tutto sembra immerso nel sonno il barone si asciuga la mano insanguinata con il fazzoletto scrutando ansioso nel buio nessuno ci ha fatto caso solo in alto tremola un'ultima luce inquieta che a lui pare beffarda tempesta è stato un sogno un brutto sogno insidioso si domandò Edgar la mattina dopo risvegliandosi con i capelli tutti arruffati da un nodo di angoscia la testa gli rintronava sordamente le giunture sembravano irrigidite di legno e come l'occhio gli corse lungo il corpo si avvide con spavento di essere ancora vestito saltato giù dal letto andò traballante allo specchio e rabbrividì alla vista della propria faccia pallida stravolta con una tumefazione arrossata sulla fronte a fatica cercò di riordinare i pensieri e angosciosamente si ricordò di tutto quanto la zuffa notturna sul corridoio il precipitoso ritorno in camera dove poi in un tremito di febbre si era buttato sul letto vestito e pronto alla fuga là doveva essersi addormentato piombando in un sonno greve spesso nei cui sogni poi tutto quanto si era ripetuto una seconda volta solo in modo diverso e ancora più tremendo con un odore umidizzo di sangue fresco a fiotti dei passi scriccolavano in basso sulla ghiaia e delle voci giungevano su a volo come invisibili uccelli mentre il sole penetrava a fondo nella stanza doveva essere già mattino inoltrato ma l'orologio che guardò stranito segnava la mezzanotte nell'agitazione si era dimenticato di ricaricarlo il giorno prima e quello stato di incertezza l'idea di un vago fluttuare nel tempo lo inquietava aggravato dalla sensazione di non sapere che cosa fosse davvero successo si rassettò in fretta e scese da basso con apprensione e un vago senso di colpa nel cuore nella saletta della colazione sua madre sedeva sola al loro tavolo abituale edgar provò sollievo per il fatto che non ci fosse il suo nemico e non dovesse vederne la faccia odiosa che lui la sera prima in un accesso di rabbia aveva preso a pugni eppure accostandosi al tavolo si sentiva insicuro buongiorno salutò la madre non gli rispose non gli rivolse nemmeno lo sguardo contemplando con strana fissità il paesaggio in lontananza era molto pallida aveva gli occhi leggermente cerchiati e intorno alle narici quel tremito nervoso così indicativo della sua irritazione edgar strinse le labbra quel silenzio lo angustiava non sapeva infatti se la sera prima avesse ferito in modo grave il barone e se lei avesse notizia del loro scontro notturno e questa incertezza lo tormentava ma la faccia della madre rimase talmente rigida che non tentò nemmeno di guardarla per timore che gli occhi ora abbassati potessero all'improvviso spalancarsi dietro le palpebre calate e abbrancarlo divenne del tutto silenzioso non osava fare il minimo rumore con circospezione sollevava la tazza e la rimetteva giù guardando furtivo le dita della madre che giocherellavano molto nervose con il cucchiaino e parevano rivelare nella loro contrazione una rabbia segreta per un quarto d'ora sedette lì in opprimente attesa di qualcosa che non accadeva non una parola non una sola che giungesse a liberarlo e quando poi la madre si alzò seguitando a ignorare la sua presenza lui non sapeva più come comportarsi se restarsene lì seduto al tavolo da solo oppure a seguirla alla fine si alzò andandole umilmente dietro mentre lei lo snobbava a bella posta avvertendo nel contempo quanto fosse ridicolo quel suo strisciarle appresso accorciò a poco a poco il passo per restare sempre più indietro e la madre senza degnarlo di uno sguardo entrò nella propria stanza quando Edgar infine arrivò lì si trovò davanti la porta sbarrata che cosa era successo non riusciva più a raccapezzarsi la sicurezza del giorno prima era svanita che magari fosse intorto con quell'aggressione e forse gli stavano preparando un bel castigo o nuove umiliazioni qualcosa doveva succedere lo sentiva qualcosa di terribile doveva accadere quanto prima tra loro c'era la fa opprimente che precede il temporale la tensione elettrica di due poli carichi che deve scaricarsi nella folgore e questo greve presentimento se lo portò dietro per quattro ore di solitudine da una stanza all'altra finché le sue esili spalle di bambino crollarono sotto l'invisibile soma e a mezzogiorno si presentò a tavola ormai tutto contrito buongiorno disse di nuovo doveva lacerare quel silenzio minaccioso tremendo che incombeva su di lui come una nube nera e di nuovo la madre non rispose di nuovo ignorò la sua presenza e con rinnovato sgumento Edgar si sentì adesso di fronte a una collera meditata massiccia mai vista sino allora le arrabbiature materne erano state fino a quel momento sempre e soltanto sfoghi collerici dai nervi più che dei sentimenti sfoghi rapidamente svaniti in un sorriso di pacificazione adesso invece lo sentiva aveva suscitato dai recessi dell'animo di lei un sentimento furibondo ed era atterrito di fronte a quella violenza incautamente provocata a stento riusciva a mandare giù un boccone in gola si era formato un groppo arido che rischiava di soffocarlo la madre non sembrò accorgersi di tutto questo soltanto alla fine alzandosi si voltò come per caso e disse dopo vieni di sopra Edgar ti devo parlare il tono della voce non era minaccioso ma così gelido che a Edgar vennero i brividi come se gli avessero messo improvvisamente intorno al collo una catena di ferro la sua resistenza era infranta in silenzio come un cane bastonato la seguì su in camera lei prolungò il tormento del figliuolo tacendo per alcuni minuti minuti durante i quali Edgar sentì battere l'orologio e fuori un bambino ridere e dentro di sé il cuore martellargli in petto anche in lei però doveva essersi una grande insicurezza perché non lo guardava mentre prese a parlargli ma gli voltava le spalle non voglio più tornare sul tuo comportamento di ieri è stato inqualificabile e mi vergogno ancora adesso a pensarci delle conseguenze devi ringraziare soltanto te stesso ora ti voglio dire solo questo è stata l'ultima volta che hai potuto rimanere liberamente in mezzo a degli adulti ho appena scritto al tuo papà che per te ci vuole un precettore o un collegio perché impari l'educazione non intendo più arrabbiarmi a causa tua Edgar ascoltava capochino sentiva quello che era solo un preludio una menazza e attendeva preoccupato la sostanza ora farai subito le tue scuse al barone Edgar ebbe un moto di stizza ma lei non si lasciò interrompere il barone è partito oggi e tu gli scriverai una lettera che ti detterò io Edgar si agitò di nuovo ma la madre fu irremovibile non ammetto obiezioni eccoti carta e penna si editi edgar alzò lo sguardo gli occhi della madre erano duri decisi inflessibili non l'aveva mai vista così così perentoria e calma ebbe paura si sedette prese la penna ma chi no la faccia sul tavolo in alto la data ci sei prima il destinatario salta una riga bene e grezzo signor barone punto esclamativo salta un'altra riga apprendo ora con rincrescimento ci sei con rincrescimento che lei ha già lasciato il semmering semmering con due m e così mi tocca affidare a una missiva quanto intendevo fare di persona ossia un po' più svelto non è una prova di calligrafia chiederle scusa per il mio comportamento di ieri come le avrà detto la mia mamma sono tuttora convalescente da una grave malattia e molto eccitabile per cui spesso vedo le cose con esagerazione e poi subito me ne pento la schiena curva sopra il tavolo si trizzò di scatto edgar si tirò la sua resistenza si era ridestata questo non lo scrivo questo non è vero edgar la voce di lei era minacciosa non è vero non ho fatto nulla di cui dovrai pentirmi non ho fatto niente di male per cui dovrai chiedere scusa io sono soltanto accorso in tuo aiuto quando tu lo hai invocato le labbra della madre divennero esangui le narici si tesero io ho invocato aiuto tu sei pazzo edgar si arrabbiò balzò in piedi di colpo si ha invocato aiuto la fuori nel corridoio la notte scorsa come lui ti ha afferrata mi lasci mi lasci hai gridato talmente forte che l'ho sentito fin dentro la stanza tu menti non sono mai stata con il barone qui in corridoio mi ha accompagnato soltanto fino alle scale a edgar si fermò il cuore di fronte a quella spudorata menzogna la voce gli venne meno e fissò la madre con occhio vitreo tu non eri in corridoio e lui lui non ti teneva stretta non ti ha abbracciata con forza lei rise un riso freddo secco che lo sei sognato questo per il ragazzino era troppo ormai sapeva che gli adulti mentono che hanno mille piccole giustificazioni sfrontate bugie che sgusciano attraverso maglie strette e ambiguità astute ma quell'impudente freddo negare faccia a faccia lo mandava su tutte le furie e questi lividi qua anche questi me li sono sognati chi lo sa con chi ti sei azzuffato comunque non sono tenuta a discutere con te tu hai soltanto da obbedire e basta siediti e scrivi era molto pallida con le ultime forze cercava di tenere in piedi la sua versione fasulla ma in Edgar a quel punto qualcosa crollò un'ultima fiammella di fiducia non riusciva a capacitarsi che si potesse semplicemente calpestare la verità così come un fiammifero acceso tutto dentro di lui si contraste in un gelo tutte le sue parole divennero taglienti cattive scatenate sicché me lo sarei sognato quello che è avvenuto nel corridoio e questo livido qua e che voi due ieri passeggiavate al chiaro di luna e che lui voleva portarti giù per il viottolo magari anche quello credi forse che io mi lasci rinchiudere in una stanza come un bambino piccolo non sono così stupido come voi credete io la so lunga la fissò con strafottenza e questo infranse le sue forze vedere la faccia del proprio bambino davanti a sé sfigurata dall'odio la rabbia in lei esplose violenta su avanti adesso tu scrivi immediatamente oppure oppure che cosa ora la sua voce si era fatta arrogante e provocatoria oppure ti pesto come un bambino piccolo Edgar si avvicinò di un passo con aria beffarda limitandosi a ridere e già la mano della madre gli era volata in faccia Edgar cacciò un urlo e come uno che affoga e fa ammolinare le braccia e negli orecchi avverte solo un rombo cupo e negli occhi uno sfarfallio rosso così egli picchiò alla cieca con i pugni sentì di pestare qualcosa di molle una faccia udì un grido quel grido lo fece l'insavire di colpo ebbe la percezione e la coscienza dell'atto mostruoso stava picchiando sua madre fu preso da paura vergogna e orrore ebbe la voglia prepotente di sparire di sprofondare di fuggire fuggire pur di non trovarsi più sotto lo sguardo di quegli occhi si precipitò alla porta e di corsa giù per le scale attraverso l'albergo in strada via via come braccato da una muta inferocita prima intuizione finalmente dopo un pezzo di strada si fermò dovete appoggiarsi a un albero a tal punto tremava in tutto il corpo dalla paura e dall'eccitazione e tale era il rantolo che gli usciva dal petto ansimante lo aveva tallonato l'orrore per il suo atto bieco che ora lo prese per la strozza cuotendolo come una quartana e adesso che fare dove fuggire perché già lì nel bosco vicino a un quarto d'ora appena dall'albergo in cui stava provò un senso di abbandono tutto pareva diverso più ostile più ostioso da quando era solo e privo di aiuto gli alberi che ancora il giorno prima gli stormivano intorno fraterni all'improvviso si addensavano sinistri come una minaccia e quanto più ostico e più sconosciuto doveva essere dunque ciò che ancora lo attendeva questa solitudine di fronte al vasto mondo ignoto dava le vertigini al bambino no non era ancora in grado di sopportarla di stare del tutto solo ma da chi poteva rifugiarsi di suo padre aveva paura era troppo irritabile poco disponibile e lo avrebbe subito rispedito indietro ma indietro lui non voleva tornare meglio inoltrarsi piuttosto nelle sconosciute insidie dell'ignoto gli sembrava di non poter mai più guardare il volto di sua madre senza pensare di averlo preso a pugni fu così che gli venne in mente la nonna quella donna anziana buona gentile che fin da piccolo lo aveva viziato e protetto quando a casa era nell'aria una punizione o un'ingiustizia si sarebbe nascosto da lei a Baden finché non fosse passata la rabbia iniziale e da lì avrebbe scritto una lettera ai genitori per scusarsi nel giro di un quarto d'ora era già così umiliato al semplice pensiero di trovarsi solo al mondo con le sue mani inesperte da maledire il proprio orgoglio quello stupido orgoglio che un estraneo gli aveva iniettato nel sangue come una menzogna voleva soltanto essere il bambino di prima locile paziente senza la protervia di cui adesso avvertiva tutta la ridicola esagerazione ma come arrivarci a Baden come superare quella distanza di ore in fretta e furia mise mano al borsellino di pelle che portava sempre con sé grazie al cielo era ancora lì lucente la moneta d'oro da 20 corone nuova di zecca che gli avevano regalato per il compleanno non si era mai deciso a spenderla anzi quasi ogni giorno aveva controllato che ci fosse ancora diliziandosi alla sua vista e sentendosi ricco e poi l'aveva lustrata ben bene con il fazzoletto e in uno slancio di tenera gratitudine finché non brillava come un piccolo sole ma l'improvviso dubbio lo angosciò sarebbe mai bastata già diverse volte in vita sua aveva preso il treno senza mai considerare che bisognasse in cambio pagare né tantomeno quale fosse il costo del biglietto se una corona oppure cento per la prima volta avvertiva che nella vita esistevano fatti ai quali non aveva mai pensato che i molti oggetti intorno a lui capitati gli tra le mani e con cui aveva giocato erano in qualche modo dotati di un loro specifico valore di un peso preciso mentre ancora un'ora prima si credeva onnisciente adesso si rendeva conto di essere passato accanto a mille segreti e questioni senza mai badarci e si vergognava che il suo povero sapere inciampasse già sul primo gradino di un accesso alla vita divenne sempre più titubante mentre i suoi passi inserti sempre più piccoli lo conducevano giù alla stazione quante volte aveva sognato quella fuga immaginandosi di entrare nella vita a bandiere spiegate di diventare imperatore o re soldato o poeta e ora guardava intimidito al piccolo edificio chiaro e l'unico pensiero era se le venti corone sarebbero bastate mai per arrivare dalla nonna i binari splendevano a perdita d'occhio nel paesaggio e la stazione era deserta edgar si accostò timidamente alla cassa e domandò sottovoce perché nessuno lo potesse sentire quanto costava un biglietto per baden una faccia meravigliata spuntò di là dello sportello scuro due occhi sorrisero dietro le lenti al bambino impacciato un biglietto intero sì balbetò edgar ma senza spocchia piuttosto con la paura che potesse costare troppo sei corone d'accordo con sollievo allungò la moneta lustra che gli era tanto cara prese il resto sonante e di colpo si sentì di nuovo indicibilmente ricco ora che aveva in mano quel cartoncino bruno garante della sua libertà e in tasca risuonava la musica discreta dell'argento secondo l'orario il treno sarebbe arrivato entro venti minuti edgar si rintonò in un cantuccio sul marciapiede sostavano un paio di persone senza faccende e senza pensieri ma il ragazzino inquieto pareva che tutti guardassero soltanto lui meravigliandosi che uno così piccolo viaggiasse già da solo quasi portasse scritto in faccia di essere un fuggitivo e un criminale quando finalmente il treno fischiò la prima volta da lontano sopraggiungendo con fragore edgar tirò un sospiro di sollievo quel treno lo avrebbe portato nel mondo solamente nel salire si accorse che il suo biglietto era di terza classe fino ad allora aveva sempre viaggiato in prima e di nuovo notò che qualcosa era cambiato esistevano differenze che a lui erano sfuggite i compagni di viaggio erano diversi dal solito certi lavoratori italiani dalla voce rauca e dalle mani dure che stringevano vanghe e badili erano seduti proprio di fronte a lui e guardavano nel vuoto con occhio spento e afflitto evidentemente dovevano aver lavorato sodo lungo la strada ferrata perché alcuni di loro erano stanchi e dormivano con la bocca aperta appoggiati allo schienale di legno duro e sporco nel treno che sferragliava avevano lavorato per guadagnare dei soldi pensò Edgar ma non riusciva a immaginare quale ne fosse il compenso e d'altra parte sentiva che il denaro era una cosa di cui non sempre si disponeva che bisognava in qualche modo guadagnarsi per la prima volta si rendeva conto di essere abituato a un'atmosfera di benessere come a un fatto del tutto normale mentre da una parte e dall'altra della sua esistenza profondi abissi si spalancavano nel buio mai toccati dal suo sguardo d'un tratto comprese che esistevano differenti mestieri e destini che attorno alla sua vita si assiepavano segreti a portata di mano oppure mai presi in considerazione Edgar imparò molto in quell'unica ora da solo cominciando a vedere tante cose da quell'angusto scompartimento con i finestrini che davano sul mondo e piano dalla sua angoscia oscura prese a sbocciare qualcosa che ancora non era felicità ma già stupore di fronte al molteplice dispiegarsi della vita era scappato per paura e vigliaccheria l'avvertiva in ogni istante e non di meno per la prima volta aveva agito in modo autonomo vissuto qualcosa della realtà cui fino ad allora non aveva badato forse per la prima volta lui stesso era diventato un enigma agli occhi della madre e del padre così come per lui lo era stato sino a quel momento il mondo guardava dal finestrino con occhio diverso e gli sembrava di vedere per la prima volta tutto l'esistente come se un velo fosse caduto dalle cose che ora gli mostravano ogni aspetto l'essenza del loro fine il nervo segreto del loro agire case sfrecciavano via come sradicate dal vento e gli venne fatto di pensare a coloro che le abitavano erano ricchi o poveri felici oppure infelici avevano anche loro come lui il desiderio appassionato di sapere ogni cosa e anche lì magari c'erano dei bambini che fino ad allora dal pari di lui avevano soltanto giocato con le cose i casellanti lungo la strada ferrata con le loro bandierine per la prima volta non gli parevano come un tempo pupazzi sparsi o giocattoli inanimati oggetti messi lì dal caso indifferente ma capiva che quello era il loro destino la loro lotta con la vita le ruote giravano sempre più in fretta le serpentine facevano scendere a valle il treno sempre più dolci apparivano le montagne sempre più lontane e già si era in pianura ancora una volta si girò a guardarle ed erano azzurre e indistinte remote e irraggiungibili e gli sembrava che là dove lentamente svanivano nella foschia del cielo stesse la sua infanzia conturbante oscurità ma poi a Baden quando il treno si fermò Edgar si ritrovò solo sul marsapiede dove già erano accese le luci e i segnali brillavano verdi e rossi in lontananza a quello spettacolo multicolore venne ad aggiungersi inaspettata un'improvvisa paura della notte imminente di giorno si era ancora sentito al sicuro perché intorno a lui c'erano delle persone era possibile riposarsi sedere su una panchina o guardare le vetrine fermandosi davanti ai negozi ma come avrebbe potuto sopportare la cosa se gli altri si rintanavano nelle loro case e tutti avevano un letto quattro parole da scambiarsi e poi una notte tranquilla mentre lui doveva vagabondare da solo con il senso della propria colpa in un luogo sconosciuto ah che bello poter avere sopra di sé al più presto un tetto non stare un minuto di più all'aperto in un ambiente non familiare questa era l'unica certezza di Edgar percorso in fretta la strada che gli era nota senza guardare a destra o a manca e finalmente arrivò alla villa dove abitava la nonna sorgeva in una bella posizione su un ampio viale ma non esposta alla vista l'insiccelata dietro rampicanti ed edere di un giardino tenuto con cura splendore immerso in una nuvola verde una casa bianca simpaticamente all'antica Edgar scrutò attraverso le sbarre come un estraneo dentro non si muoveva nulla le finestre erano sbarrate senz'altro sedevano tutti sul retro nel giardino in compagnia di ospiti già stava toccando la maniglia fredda quando accadde un fatto strano un tratto ciò che da due ore aveva immaginato facile e ovvio gli sembrò impossibile come poteva entrare salutare i presenti come sottostare a tutte le domande e dar loro risposte come reggere al primo sguardo dovendo riferire di essere scappato di nascosto da sua madre e come spiegare poi la mostruosità del proprio gesto che lui stesso già non riusciva più a comprendere dentro si sentì il rumore di una porta di colpo lo prese una paura folle che potesse arrivare qualcuno e proseguì di corsa senza sapere dove davanti al parco pubblico si fermò perché vide che era buio e immaginava che non vi fosse nessuno forse lì poteva sedersi e riflettere finalmente in pace riposarsi e meditare sulla sua sorte entrò con timida apprensione sul davanti erano accesi alcuni lampioni che davano al fogliame ancora tenero uno spettrale scintillio di acqua trasparente e verde ma più indietro dove la collina digradava tutto era immerso come una massa compatta cupa nera in fermento nella conturbante oscurità di una precoce notte di primavera edgar schivò a quatto le poche persone sedute a chiacchierare o a leggere sotto il cono di luce dei lampioni voleva stare solo ma anche in alto nel buio fitto dei viottoli senza illuminazione non c'era pace tutto era pieno di un sommesso frusciare per lottare nell'ombra a volte frammisto all'alito del vento tra le foglie flussuose allo stracichio di passi lontani ai sussurri di voci smorzate a un certo qual risuonare voluttuoso sospiroso angosciosamente colmo di gemiti che poteva provenire al contempo da esseri umani ed animali e dalla natura in sonno inquieto era un'agitazione insidiosa sorniona occulta allarmante ed enigmatica quella che pulsava lì un lavorio sotterraneo nel bosco magari unicamente connesso con la primavera ma tale da impaurire in modo singolare il ragazzino spaesato si rannicchiò tutto su una panchina in quell'oscurità abissale e cercò di pensare che cosa avrebbe dovuto dire a casa ma i pensieri gli sgusciavano via come anguille prima che potesse afferrarli senza volerlo era continuamente indotto a captare il suono vattato le arcane voci delle tenebre com'era spaventosa quell'oscurità com'era conturbante e tuttavia misteriosamente bella erano animali o esseri umani oppure soltanto la mano spettrale del vento a intessere tutto quel mormorio e crepitio quel ronzio e richiamo ad escatore tese l'orecchio era il vento che si insinuava inquieto in mezzo agli alberi ma erano anche adesso lo percepi chiaramente persone coppiette allacciate che salivano dal basso dalla città illuminata e animavano con la loro enigmatica presenza l'oscurità che cosa cercavano non riusciva a capirlo non parlavano tra loro perché non sentiva voci solo lo scricchiolare inquieto dei passi sulla ghiaia e di tanto in tanto vedeva nella radura le loro sagome fluttuare via fugaci simili a ombre sempre però strettamente avvinte l'una all'altra come la volta in cui aveva visto sua madre con il barone sicché quel segreto grande baluginante e fatale era presente pure lì adesso udiva i passi farsi sempre più vicini e anche un ridere soffocato fu colto dalla paura di poter essere scoperto da coloro che si stavano appressando e si rintanò ancora di più nel buio ma i due salendo alla cieca per il viottolo nell'oscurità impenetrabile non lo notarono gli passarono davanti avvinghiati e mentre edgar già tirava un sospiro di sollievo improvvisamente si fermarono a breve distanza dalla sua panchina i loro volti si congiunsero edgar non riusciva a vedere bene senti soltanto un gemito uscire dalla bocca della donna e l'uomo balbettare parole ardenti folli e un sensuale presentimento permeò la sua paura con un brivido voluttuoso rimasero così per un minuto poi la ghiaia tornò a scricchiolare sotto i loro passi che si allontanavano e presto si persero nel buio edgar rabbrividì il sangue prese a rifluirgli nelle vene più caldo di prima ed un tratto si sentì rimediabilmente solo in quella conturbante oscurità con il prepotente bisogno di una voce amica di un abbraccio di una stanza luminosa di una persona cara era come se tutto il buio angoscioso di quella notte confusa gli fosse entrato dentro e gli facesse scoppiare il petto balzò in piedi a casa adesso a casa trovarsi in una stanza misera oppure luminosa a contatto con altri esseri umani che cosa poteva succedergli lo picchiassero e sgridassero pure non temeva più niente da quando aveva vissuto quel buio e la paura della solitudine era spinto oltre senza sapere come e all'improvviso si ritrovò davanti alla villa con la mano sulla maniglia fredda notò che adesso le finestre balluginavano illuminate attraverso il verde e nel pensiero vedeva dietro ogni vetro rischiarato l'ambiente familiare con le persone che vi erano dentro già l'essere lì a pochi passi lo rendeva felice quella prima sensazione rasserenante da essere vicino a coloro da cui si sapeva amato e se ancora indugiava era soltanto per assaporare più a fondo ciò che presentiva ed ecco alle sue spalle una voce esclamare con stridula sorpresa edgar ma è qui la cameriera della nonna che lo aveva notato si precipitò verso di lui e lo prese per mano la porta venne spalancata dall'interno un cane gli fece festa mettendogli le zampe sulle spalle e abbaiando dalla casa uscirono tutti rezzendo dei lumi edgar sentì un unico schiamazzo di giubilo e spavento un gioioso tumulto di gride e di passi che si avvicinavano di persone che adesso riconobbe in testa la nonna le braccia protese e dietro gli parve di sognare sua madre con gli occhi pieni di lacrime tremante e intimidito si ritrovò in mezzo a quel caldo sfogo di sentimenti appassionati e non sapeva che cosa fare o dire incerto lui stesso su quanto provava paura oppure felicità l'ultimo sogno era successo che lì l'avessero cercato e atteso già da un pezzo la madre spaventata nonostante l'arrabbiatura per la precipitosa fuga del bambino stravolto aveva fatto cercare al semmering già tutti erano in preda alla massima agitazione e formulavano sinistre congetture quando un signore riferì di aver visto il ragazzino verso le tre allo sportello della stazione ma fu subito possibile appurare che Edgar aveva acquistato un biglietto per Baden e senza indugio la madre perse il primo treno per raggiungerlo la precedevano un telegramma a Baden e uno a Vienna al padre del bambino entrambi seminando il panico tanto che da due ore tutti erano in cerca del fuggitivo adesso lo tenevano stretto senza violenza però con misurato trionfo fu condotto nella stanza ma come gli risultò strano non far caso a tutte le dure parole di rimprovero che gli venivano rivolte nei loro occhi leggeva infatti la gioia e l'amore e dal resto quella sceneggiata quella finta arrabbiatura derò solo un istante poi la nonna tornò ad abbracciarlo fra le lacrime nessuno parlò più della sua colpa ed Edgar si sentì circondato da meravigliose premura la cameriera gli tolse la giacca e gliene portò una più calda la nonna gli domandò se aveva fame o se voleva fare qualche altra cosa seguitarono a chiedere a tormentarlo con affettuosa sollecitudine e come videro il suo imbarazzo non fecero ulteriori domande voluttuosamente riassaporò la sensazione tanto spregiata eppure rimpianta di essere soltanto bambino e provò vergogna per la pretesa degli ultimi giorni non voler fare a meno di tutto questo e cederlo in cambio dell'ingannevole smania di una propria solitudine nella stanza accanto squillò il telefono sentì la voce di sua madre colse qualche parola Edgar tornato vieni ultimo treno meravigliandosi che lei non lo avesse investito furibonda ma si fosse limitata a fissarlo con uno sguardo di singolare pacatezza sempre più cocente si fece in lui il pentimento e avrebbe voluto sottrarsi alle premure della nonna e della zia per andare di là a chiedere scusa a dirle con tutta umiltà mentre erano soli che desiderava essere di nuovo bambino e obbedire ma come fece per alzarsi quatto la nonna disse piano allarmata dove vuoi andare ci rimase male ormai erano in ansia per lui se soltanto si muoveva li aveva spaventati tutti adesso temevano che scappasse di nuovo come poteva far capire loro che nessuno più di lui era dispiaciuto di quella fuga la tavola era apparecchiata e gli servirono una rapida cena la nonna si sedette accanto ad Edgar e non distolse gli occhi dal ragazzo lei la zia e la cameriera lo chiusero in un invisibile cerchio e come per incanto egli si sentì tranquillizzato da quel calore lo turbava solo il fatto che sua madre non entrasse nella stanza se avesse immaginato quanto era contrito sarebbe venuta certamente fuori fuori si sentì il rumore di una carrozza che si fermò poi davanti alla casa gli altri si agitarono a tal punto che anche Edgar fu preso da inquietudine la nonna uscì voci rimbalzarono sonore nel buio ed un tratto il ragazzo si rese conto che era arrivato il padre impaurito Edgar si avvide di essere rimasto solo nella stanza e persino quella solitudine da niente lo sconvolse suo padre era severo era l'unica persona che lui davvero temesse Edgar tese l'orecchio il padre sembrava eccitato parlava a voce alta e addirata intese a rabbonire si inframmezzavano alla sua le voci della nonna e della madre evidentemente cercavano di indurlo a più miti consigli ma la sua voce restò dura dura come i passi che si avvicinavano sempre di più già risuonavano nella stanza accanto lì davanti alla porta ora spalancata di colpo il padre era assai alto e indicibilmente piccolo si sentiva adesso Edgar al suo cospetto quando l'uomo entrò nervoso e con ogni evidenza davvero in collera come ti è saltato in mente sciagurato di scappare come hai potuto spaventare in questo modo tua madre la sua voce era irosa e le mani si agitavano furibonde dietro di lui con passo felpato era entrata la madre offuscata in volto Edgar non rispose avrebbe dovuto giustificarsi lo sentiva ma come poteva raccontare che era stato ingannato e percosso il padre lo avrebbe capito ebbene hai perso la lingua che cosa è successo dillo pure qualcosa non ti andava ci deve ben essere un motivo per scappare qualcuno ti ha forse fatto un torto edgar esitava il ricordo gli accendeva in lui la rabbia stava già per pronunciare un'accusa quando vide e il cuore gli si arrestò sua madre fare uno strano gesto alle spalle del padre un gesto che li per lì non capiva ma poi lei lo guardò con occhi imploranti e silenziosamente si portò alle labbra un dito facendo segno di tacere e allora all'improvviso il bambino sentì qualcosa di caldo una felicità enorme sfrenata per tutto il corpo comprese che la madre affidava a lui la custodia del segreto che sulle sue piccole labbra infantili era riposto un destino e un orgoglio di smisurata esultanza lo pervase per il fatto che lei confidasse in lui lo colse una subitanea dedizione una voglia di aggravare la propria colpa per dimostrarle quanto fosse già uomo si fece forza no no non c'era motivo la mamma è stata molto buona con me ma io sono stato villano mi sono comportato male e allora allora sono scappato perché avevo paura il padre lo guardò stupito tutto si era aspettato tranne quella confessione la sua collera sbollì beh se sei dispiaciuto allora la cosa è risolta e adesso non parliamone più sono certo che un'altra volta ci penserai bene che un fatto del genere non si ripeta squadrò il figliuolo e la sua voce si fece più buonaria quanto sei pallido ma mi pare che tu sia ancora cresciuto spero che non ripeterai più simili bambocciate ormai non sei più un ragazzino e potresti comportarti come si deve edgar per tutto il tempo aveva fissato esclusivamente la madre gli pareva che qualcosa scintillasse nei suoi occhi oppure si trattava soltanto di un riverbero della fiamma no era in esse uno splendere umido e luminoso e intorno alla bocca lei aveva un sorriso di gratitudine adesso lo mandarono a letto ma non era triste che lo lasciassero solo aveva tante cose da riconsiderare una moltitudine di impressioni caotiche e ricche tutto il dolore degli ultimi giorni si dissolse nella potente consapevolezza di quella prima esperienza si sentiva felice in un misterioso presentimento di eventi futuri fuori nella fitta oscurità notturna gli alberi stormivano ma lui era libero da angosce aveva perso ogni impazienza nei confronti della vita dal momento in cui si era reso conto di quanto fosse ricca gli pareva di averla vista per la prima volta quel giorno nella sua nudità non più ammantata dalle mille menzogne dell'infanzia ma in tutta la sua voluttuosa e insidiosa bellezza non aveva mai pensato che le giornate potessero essere così sature di continue oscillazioni tra gioia e dolore ed era felice al pensiero che ancora tanti di questi giorni lo attendessero una vita intera per svelargli i suoi segreti aveva acquistato una aurorale intuizione della varietà dell'esistenza per la prima volta credeva di aver compreso la natura degli esseri umani come gli uomini avessero bisogno gli uni degli altri anche quando sembravano nemici e quanto fosse dolce esserne amati era incapace di pensare a qualcosa o a qualcuno con odio non recriminava nulla e per lo stesso barone seduttore il suo cerrimo nemico provava un sentimento nuovo di gratitudine perché gli aveva schiuso la porta su questo mondo dei primi sentimenti era dolce e carezzevole adesso pensare al buio tutte queste cose la suavemente confusa immagini di sogno e ormai quasi in sonno e gli pareva che la porta si fosse aperta all'improvviso e qualcuno entrasse in silenzio stentava a credere ai propri sensi e poi era già troppo addormentato per aprire gli occhi ed ecco sentì sopra di sé un respiro un volto siorare tenero caldo e dolce il suo ed era certo che fosse sua madre a baciarlo ora passandogli la mano sui capelli sentì i baci e le lacrime ricambiando dolcemente le tenerezze e questo lo intese soltanto come riconciliazione come gratitudine perché aveva taciuto solo più tardi molti anni dopo riconobbe in quelle lacrime silenziose una solenne promessa da parte della donna avviata al declino la promessa di appartenere in futuro unicamente a lui al suo figliuolo una rinuncia all'avventura un addio a tutte le proprie concupiscenze non sapeva che anche lei gli era grata per essere sfuggita a una sterile avventura e che ora con quell'abbraccio gli lasciava il dolce amaro fardello dell'amore come un retaggio per la vita futura tutto ciò il bambino di allora non lo comprese ma sentì che era molto esaltante essere amati in quel modo e che attraverso questo amore era già coinvolto nel grande segreto del mondo quando poi la madre ritrasse la mano staccando le labbra da quelle di lui e la silenziosa presenza si dileguò rimase ancora un calore un alito sulle labbra del bambino e carezzevole lo pervase il desiderio di sentire ancora e spesso labbra così morbide e di essere abbracciato così teneramente ma l'acuto presentimento del tanto agognato segreto era già circonfuso dalle ombre del sonno ancora una volta gli passarono davanti vivide le immagini delle ultime ore ancora una volta si spalancò seducente il libro della sua giovinezza poi il bambino si addormentò ed ebbe inizio il sogno della sua vita più profondo di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio